Non si sono ancora placate le polemiche per la scarcerazione di Giovanni Brusca, condannato per le stragi degli anni 90 e per oltre 150 omicidi. La storia di Cosa Nostra e dei rapporti con la parte deviata dello Stato è un labirinto di verità frammentate. Ed è in questo labirinto che vogliamo portarvi. Se lo Stato non avesse cercato Riina e Cosa Nostra, probabilmente Cosa Nostra non avrebbe avuto l'ardire di continuare a sfilare lo Stato con sette stragi. Chi non è morto nella guerra di mafia è perché non ha mai fatto niente. L'avere ritardato per 7-8 anni la cattura di Provenzano è stato un atto politico di una gravità assoluta. Tu pensi che mio padre non se l'era immaginato che la mafia gli avrebbe fatto pagare il conto delle sue scelte? Non può non essere il capo del momento da tenere questi documenti che sono la vera arma del potere e l'arma del ricatto. Cosa Nostra io sono stato cercato dallo stato al governo dovevo vendere i morti questo è il cretto di alberto burri un'opera di straordinaria bellezza e di grande intensità emotiva creato proprio qui nel luogo dove sorgeva la vecchia città di gibellina all'inizio degli anni ottanta questa zona fu interamente distrutta dal terremoto fratture di cemento nel terreno che hanno inglobato le macerie quasi una sorta di pietrificazione della memoria come dire che il terremoto può distruggere sì un paese ma non può cancellare la sua storia non può cancellare la sua verità la verità di cui cercheremo di ritrovare il filo in questo labirinto dei detto non detto dei non ricordo e la verità della trattativa tra una parte deviata dello stato e la mafia sono passati quasi 30 anni ci sono stati processi ci sono verità cristallizzate in sentenze ma ancora sono troppe le domande a cui nessuno ha dato ancora una risposta il fatto che è verificato un po' prima dei musicconi capaci c'è tutto il terreno entrato l'autore è stato sentire a sentire a sentire a dire sono un sacco di ambulanti sono un sacco di saliti 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 sono un sacco di auto che sono tutta l'aria sono un sacco di macchina di scoppa che è il padre di scoppa e ha ritenuto la rinleghe il magistrato ha forse che sono fatto a coltare sono un sacco di saliti signora Mormillo mi presenta Fiorina è passato i navi alla tampa destra sono un sacco di saliti sono un sacco di saliti sono un sacco di saliti si tratta di un asperitato c'è un collega forse che è rimasto all'interno della mancchina non è sedito che è qua ci è venuto a chiedermi il vostro aiuto noi eravamo vicino abbiamo già udito un tremendo voto c'era un sacco i cinque colleghi sono scesi giù unitamente al magistrato il magistrato stava suonando un po' di un uomo o qualcosa i colleghi erano tutta a terra e stracettate solo uno tranne uno Muglio Muglio dell'ubicio scorte che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale ci sono un uomo e di un uomo di un uomo di un uomo di un uomo ma come vai in casa la personale per il momento non si sa perfettamente niente perché il uomo sono tutti morti tutti morti anche il magistrato non sappiamo se si tratta del giudice Bostellino o dell'autista di un altro collega a quanto pare era Bostellino con me deve tenterciare lui avendo la giusta cosa lui può fare ma che mi dice ma che abbia decisione ma che abbassiamoci e ciò se la cosa si Totò Rina viene catturato il 15 gennaio del 1993 ma grazie a chi fu catturato è vero come dicono alcuni che fu Bernardo Provenzano a dire agli uomini del ROS come trovare Totò Rina fu lui a dare le indicazioni che permisero l'arresto del numero uno di Cosa Nostra e perché però quel giorno stesso non venne fatta la perquisizione nel covo in quella villa nel cuore di Palermo dove Totò Rina insieme alla sua famiglia ha vissuto gran parte della sua latitanza quel patto scellerato tra una parte dello Stato e Cosa Nostra continua ancora oggi con Matteo Messina Denaro condannato per le stragi di Capaci di Via D'Amelio e per le bombe del 93 è oggi diventato un fantasma invisibile di Capaccio di Capaccio di Capaccio Grazie a tutti. 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 Una latitanza tranquilla a casa sua, grazie alle coperture di cui può godere. Fino al famoso 15 gennaio del 1993, giorno dell'arresto. Un arresto su cui gli investigatori si muovevano da tempo. Muore Falcone. Su questa famiglia mafiosa, i ganci. Tra i tanti pedinamenti, un pedinamento avrà un'importanza strategica, fondamentale. Un giorno seguiamo ganci domenico e arrivati nei pressi di via Bernini lo perdiamo durante il pedinamento. Poi arriva un collaboratore di giustizia importante al balduccio di Maggio e lui diceva, Rina lo tengono i ganci della noce oppure i fratelli Sansone della famiglia Uditore Passa di Rigano. Non erano conosciuti. Ma lui diceva che erano imprenditori all'epoca, ma lui diceva che lui diceva che erano imprenditori edili. Allora noi rapidamente abbiamo fatto gli accertamenti, abbiamo visto che questi fratelli Sansone avevano un'utenza Enel proprio in via Bernini 54. A questo punto per noi questo obiettivo di via Bernini 54 diventava subito un obiettivo importante. Quindi ci siamo battuti con la procura di Palermo, con il procuratore Alicuò. Perché dice ci siamo battuti? C'era qualcuno che non riteneva via Bernini 54 l'obiettivo vero? Siballuccio di Maggio aveva raccontato quelle che erano state le sue frequentazioni con Rina e dove aveva accompagnato personalmente Rina. Aveva indicato Fondo Gelsomino e altri 3-4 luoghi che, parliamo di 4-5 anni prima, dove lui 4-5 anni prima aveva accompagnato personalmente Rina. Quindi cosa era accaduto? Il procuratore Alicuò, che dirigeva la procura prima che poi giungesse Caselli, insieme ad altri all'arma territoriale, avevano deciso di preparare un blitz su tutti i luoghi dove Di Maggio aveva accompagnato Rina. Ritenendo che in uno di questi, e in particolar modo Fondo Gelsomino, sicuramente avremmo potuto trovare Rina in persona. Io quando ho capito questa situazione ho rappresentato che secondo me era importante seguire e invece controllare via Bernini 54 per i motivi che ho detto. Il rischio secondo lei, secondo il suo intuito, fare un'operazione a Fondo Gelsomino poteva bruciare tutto. Sono le stesse cose che io ho esposto con la difficoltà che io ero un piccolo capitano e sono stato costretto a chiedere di portare Balduccio Di Maggio a spiegare insieme a me la situazione. E gli ho chiesto precisamente, scusi, secondo lei in questi luoghi dove lei ha accompagnato Rina, ci troviamo Rina? E lui ha detto no, assolutamente no, sono posti buoni per iniziare a lavorare. Balduccio Di Maggio, della famiglia di San Giuseppe Iato, era stato l'autista di Totorina. Arrestato nel 1993 a Borgomanero, vicino a Novara, viene condotto a Palermo, dove permette al reparto operativo speciale dei carabinieri di individuare il covo del capo dei capi. Ma le cose andarono davvero così? I colleghi della stazione di San Giuseppe Iato ci segnalano l'allontanamento volontario di questo Di Maggio, che era un posto emergente, dal paese, cosa strana. Era andato in contrasto con qualcuno? Era andato in contrasto molto probabilmente con i padroni della zona che erano di Brusca, la famiglia Brusca molto vicina a Totorina. In particolare con Giovanni Brusca, che era nel cuore di Rina, e quindi chi va in contrasto con questi personaggi, in Cosa Nostra, fa una sola fine. Quindi decide di andarsene? Di Maggio decide volontariamente di allontanarsi, sparisce. Chiediamo all'autorità giudiziaria di poter sottoporre intercettazione telefonica e ambientale, dopo averlo localizzato a Borgomanero, provincia di Novara. Ecco, per mesi lo tenete sotto controllo, senza avere grandi riscontri, però a un certo punto c'è una telefonata che fa cambiare tutto. Esattamente, a un certo punto c'è una telefonata che fa intendere che ci sia un traffico in atto, o di droga, o di armi, o di qualcosa di simile. E quindi, anche perché erano passati parecchi mesi, decidiamo di far intervenire immediatamente i colleghi sul posto per dirci che cosa succedeva. I colleghi vanno e effettivamente trovano un'arma, un giubbotto antiproiettile, dei proiettili, forse anche un po' di droga. E quindi ci avvisano immediatamente, sempre in accordo con la procura di Palermo, partiamo io con il mio personale per andare a proseguire l'indagine. Ci richiamo a Novara, arriviamo in tarda serata e troviamo tutto il personale di Novara in compagnia di Di Maggio, che era apparentemente tranquillo, sereno, anche se sembra una dicotomia sereno, ma triste, preoccupato, pensieroso. Aveva paura di fare una brutta fine? Diciamo che nelle ore successive così si è capito, anche perché la situazione che ho descritto prima era quella. Lui era in contrasto con Imbrusca e quindi poteva aspettarsi solo cose negative per lui. Eppure aveva anche paura di non potersi fidare davvero? Anche di uomini vostri, per dire. Ma fu la prima cosa che disse, che non voleva parlare con il personale della Sicilia, delle forze di polizia, ma questo comprensibile perché purtroppo Cosa Nostra ha sempre avuto infiltrati ovunque, quindi anche ne... Quindi con lei che era piemontese? Io ero piemontese, glielo dissi, si lo tranquillizzai, sono di Torino, sono a Palermo da due mesi, quindi stia tranquillo. E si aprì? Iniziò a aprirsi? Sì, 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 illustrai tutte le... come succedeva all'epoca, illustrai tutto per filo e per segno le norme che regolavano un'eventuale collaborazione e non vogliaiai, anche perché lui era con una compagna in attesa di un bimbo che poi ebbe, o era appena nato, quindi aveva chiaramente tutto l'interesse a ricostruirsi una vita lontano da Cosa Nostra. L'arresto quando venne fatto? 8 gennaio 1993. In quelle ore in cui siete rimasti insieme, perché fu una lunga notte... No, sì, tutta la notte, dalla mezzanotte fino alle 8 e 8 del mattino. Su Totorina disse delle cose importanti? No, immediatamente no. Subito dopo però diede qualche indizio abbastanza labile su quello che poteva essere appunto il maggiore cercatorepo da Totorina. Disse che l'aveva visto una volta cinque anni prima, portando un figlio a una comunione dalle parti di Corso Caratta fino a Palermo e una seconda volta due anni prima, quindi epoche lontane, appoggiato da una parte nei pressi della zona Leonardo da Vinci a parlare con un'altra persona. La zona Leonardo da Vinci, non lontana da dove poi è stato trovato, no? Non lontana, anzi vicina poi al covo famoso di Via Bernini, dove ha parlato brevemente di questi incontri con Lina, ma si era accusato di essere appartenente a Cosa Nostra, aveva confessato decine di omicidi, condovizia di particolari e altre vicende. Quindi era dovere immediato, cominciava a sviluppare già comunque un'attività investigativa. Salvatore Baiardo è il gelataio piemontese condannato per favoreggiamento per aver gestito durante la stagione stragista la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Ma del giorno dell'arresto di Balduccio di Maggio fa un'altra ricostruzione. Io, Giuseppe, quella sera c'era mio cugino, c'era Filippo, abbiamo finito di giocare a carte. Sì, come di solito giocavamo a poker la sera. Notte? Quando giocavai? Sì, sì. Io lavoravo anche, quando chiudevo l'attività, poi si andava a casa, c'era due chiacchiere, una spighettata, e ci si metteva, le donne andavano a dormire, ci si metteva a fare il pokerino. Poi una mattina alle sei esco, vado a prendere, come sempre, i vari croissants per fare colazione. faccio un incontro, beviamo il caffè, due chiacchiere, e torno subito a casa. E io, Giuseppe, sai che andava a stare a Filippo Maggio? Perché si era messo già in pista per poter avvisare Salvatore Rigno, perché si sa che lui... Era l'autista, l'uomo di più vicino. Sapeva tanti segreti, dove era la titante, per esempio. Chi gliel'ha detto? Conoscevo tutti, si può dire tutti, puliti e non, indivise e non indivise. Ma era una notizia molto riservata, lei mi sta dicendo, io lo so, ufficialmente è l'8 di gennaio. Molto prima, era a cavallo tra Santo Stefano e Filiano. La data non coincide con quella ufficiale? Si vede che dovranno tenerla nascosta, non lo so. Ma chi è che gliel'ha detto? Si può sapere, era un uomo delle forze dell'ordine? Era uno di quelli che stanno un po' di qua, un po' di là? Non so questo, evidentemente se sta anche di là non lo so, ma di qua stava sicuramente, perché ci teneva aggiornato su tante... Ma vi teneva aggiornato? Lei l'arresto di Balduccio di Maccio lo colloca sicuramente l'8 gennaio, cioè non... Sì, sì, senza altro, perché c'è stata questa interlocuzione telefonica con i colleghi, le telefonate registrate, ci sono di fatto... Tutti i documenti? Ma sì, ci sono le telefonate registrate, da cui è partita la cosa, se mi sbaglio di un giorno può essere, ma che ci siano state riscende strane, prima o dopo no. A quel punto però, dovevate immediatamente avvisare Totorina il rischio? E' quello che ha subito fatto Giuseppe Graviano, si è messo in moto per cercare di... come infatti mi aveva chiesto anche a me fa, tu te la senti, pigliare la macchina e correre giù? E gli ho detto di sì, solo che poi l'indomani, non so come mai, non chiedetemi il perché, tutto sospeso. Non è stato più avvisato? Non ci doveva fare... E' strano però, cioè il legame forte che aveva con Totorina e Graviano, perché non lo va a avvisare? Non lo so, questo... Gli dice vai giù, prendi la macchina, vai... Questa è la prima cosa che mi ha detto. Ovviamente non le ha detto dove doveva andare, le avrebbe detto dopo, lei sapeva dove era nascosto Totorina. No, evidentemente me l'avrebbe detto o mi avrebbe mandato da qualcuno che... E perché all'improvviso non avvisarlo? Non lo so, questo non so dare una risposta. Forse Provenzano, come dicono, ha dato il via libera per prendere Totorina, per chiudere la fase delle stragi. Perché è strano che Graviano non muova subito qualcosa per avvisare Totorina. Cioè se viene stoppato, se lei mi dice la prima idea di Graviano è quella di andare, subito. Subito. Subito gliela ha detto? Subito. E poi? Qua c'è da avvisare Uzzototò. Fa tutta la sentita di prendere la macchina. Va bene, cosa devo fare? Non potevo dirgli di no. Una mattina vengono uscire un'autovettura e Di Maggio riconosce a bordo dell'autovettura, guidata da quella, da una persona che lui chiama Biondolillo, ma in effetti è un certo biondino, poi venato e stato ovviamente, e Totorina. Lo riconosce. A quel punto l'operazione di cattura venne effettuata a distanza di circa un chilometro da via Bernini, a Piazzale Kennedy, vicino al motellaggio di Piazzale Kennedy, 800 metri in effetti, e lì scattò l'operazione che apparve come un'operazione del tutto casuale, nel senso un'operazione per cui il carabinire nel traffico delle macchine fece un'operazione brillantissima e velocissima. Il 15 gennaio, alle ore 8.55, al numero 54 di via Bernini, ha inizio l'operazione Belva. Salvatore Rina esce dal comprensorio residenziale, dove si trova la sua villa. Alla guida c'è Salvatore Biondino, viene riconosciuto da Balduccio Di Maggio, che si trova con il capitano ultimo nel furgone, appostato da giorni davanti all'ingresso del comprensorio, da dove aveva già visto uscire la moglie di Rina, Ninetta Bagarella. Voi avete questa balena, la chiamate balena, che era una specie di camper. La balena è la nostra invisibilità, è l'osservazione nascosta, è il nostro punto di guarda. Un furgone bianco? È un furgone e all'interno ci sono operatori nostri che osservano. Ma come era fatto? Eravamo abbastanza artigianali, avevamo questo furgone, all'interno ci avevamo messo il telo dei rifiuti e sembravamo così, dei poveracci con un mezzo scassato, che è importante dare questa sensazione. Alla fine questa nostra pochezza di risorse è stata la nostra forza, perché siamo sempre a immagini, siamo come dei rifiuti in una scena. Noi siamo andati là e abbiamo fatto le riprese quel giorno precedente all'arresto. Aveva iniziato il 14 gennaio, prima dell'arresto, giorno prima hai iniziato a filmare. Sì, perché la procura aveva assegnato i compiti. Questo di maggio, cos'è che ha detto di importantissimo? Il fatto che Riina lo seguivano i Ganci della Noce e i Sansone, uditore passo di rigono, ma soprattutto che il vivandiere di Riina era di Marco Vincenzo. Cioè la cosa più importante che ha detto di maggio è stata questa. Quindi a questo punto tutte le risorse della procura della Repubblica e dell'arma territoriale ovviamente, giustamente, erano state canalizzate sul vivandiere completamente sconosciuto di Riina. E quindi l'arma territoriale aveva avuto l'ordine dalla procura di seguire questo personaggio, che era di Marco Vincenzo. Ma non lo si trovava, pare. La mattina il collega del nucleo operativo Balsamo mi dice guarda, di Marco è uscito la mattina di casa, perché di maggio aveva indicato esattamente chi era la persona. Cioè non ha fatto niente, si è messo la coppola e sul trattore si è messo a coltivare il campo. Dico, beato lui, dico, si vede che ama la terra. E la sera guardavamo i filmati. E io alle 10 mi ricordo la scena, guardo Oscar, guardo Viking, guardo Ombra. Questi ragazzi distrutti, che lavoravano giorno e notte, attenti a tutti i fotogrammi del filmato. E mi viene in mente, dico, ma dov'è Di Maggio? Perché noi stiamo qua con la solita lattina di Coca-Cola, con il pezzo di pizza appoggiato su mobili di seconda mano? E dico, no, Di Maggio quello deve finire qua, ci aiuterà a vedere i filmati. Perché lui deve stare tranquillo in un letto e noi qua, con noi quattro disperati? E allora gli dico, no, ho chiamato la territoriale e gli ho detto, scusate, portate Di Maggio che ci aiuta a vedere i filmati. Guarda i filmati e a un certo punto dice, questo è di Marco Vincenzo, con una golf. E io dico, ma come? Stamattina il collega mi ha detto che era andato in campagna con la coppola e il trattore, e invece esce da questa casa. Questa è Ninetta Pagarella, questa è Lucia Rina, questo è l'altro figlio di Rina. Quindi noi abbiamo capito che in quella via Berdini 54, noi vedevamo un cancello a verde. Dentro c'erano diverse ville, ma noi non sapevamo come era, dentro non c'eravamo mai andati. E quindi a questo punto per noi diventa importante, il giorno dopo io chiedo ancora che Di Maggio venisse con noi nella balena a osservare le persone che entravano e uscivano da questo civico e ci prepariamo per vedere se da questa casa la moglie o il di Marco sarebbero andati a raggiungere Rina. Ci siamo organizzati così. La mattina mettiamo il dispositivo e stiamo su via regione siciliana, ci disperdiamo in un raggio di 3-4 chilometri, stiamo larghi perché l'invisibilità è tutto. La lotta non c'è se non c'è l'invisibilità, è un'altra cosa, è una celebrazione, una manifestazione, ma la lotta è ombra contro ombra e tu devi rimanere ombra se vuoi vivere e se vuoi vincere. Quindi stiamo là, io sto con Vichingo, vedo sempre dalle posizioni il dispositivo e lo tengo larghissimo e a un certo punto ci viene come una stanchezza e sento il tempo che diventa, lo tocchi quasi il tempo quando hai l'attesa e sei in tensione. E a un certo punto Ombra dice attenzione, è entrato Biondolillo, che invece era Biondino Salvatore, il killer del Capitano D'Aleo, il regista delle straci. E dopo due minuti, attenzione, attenzione, sta uscendo il nostro amico Sbirulino, che era il nome in codice con cui nascondevamo, no? Per non farci intercettare via radio, Rini. Lo seguiamo, facciamo un percorso obbligato, il dispositivo unito, ci concentriamo, due macchine davanti, tre macchine dietro, siamo davanti al semaforo in via regione siciliana, al Montelaci, e a quel punto il semaforo è rosso, ok, lo prendiamo, scendiamo, io e Vichingo prendiamo Rina, lato passeggeri, Arciere e Omar prendono Biondino, lato guida, Freccia recupera la macchina, praticamente un sequestro. Buongiorno, un duro colpo per la mafia, l'arresto compiuto questa mattina dai crabinieri a Palermo di Totò Rina, il numero uno di Cosa Nostra. Era tranquillamente a bordo di un'auto insieme ad un'altra persona, Rina, quando è stato bloccato. Latitante da oltre vent'anni, c'era sempre stato sospetto che vivesse comunque a Palermo. L'infarto, cioè era l'uomo, era il capo della mafia, era l'uomo più ricercato d'Italia, e non solo. Quegli attimi quando lei apre la portiera, e come racconta quegli istanti, che sono gli istanti che rimarranno per sempre nella storia? Sono attimi, sono la forza dei carabinieri, la forza di una battaglia, la forza di un dispositivo che è unito, due fanno un'azione, il tempo lo vedi come in un film, sei deciso, sei tranquillo perché sei con i tuoi uomini, sai che hai vinto, loro non si sono accorti di niente, hai vinto, sei forte, hai la forza dentro di te, la reazione di Totorina, quando viene delle parole che le ha chiesto. Vede la forza, e lui vede la sua fragilità, vede la paura, e ha paura, e inizia a dire chi siete, chi siete, chi siete, e poi dice sto male, sto male, sto male, e non è bello, e vedi che è un perdente, uno sconfitto, si è sconfitto, ma ha detto, ha dichiarato chiero, ha cercato di negare la sua identità. se quello aveva paura di morire, allora, è brutto parlare di chi ha perso, vanno rispettati i perdenti, quello aveva il terrore di morire, e si è comportato come uno terrorizzato dalla morte. Nel comprensorio di via Bernini 54, in una bella villa di due piani con piscina, Rina trascorre con la famiglia, gran parte della sua latitanza, durata ben 24 anni. Nessuno dopo la sua cattura, perquisisce questa villa, che poteva contenere documenti importanti. Perché non entrarono mai i carabinieri qui, in questo comprensorio, a fare la perquisizione del covo di Totorina? In realtà è rimasto veramente un mistero. In quello che i giudici, poi nel processo, nella sentenza che GV, dicono, soprattutto nella sentenza trattativa, dicono che fu l'unico caso, nella storia giudiziaria del paese, in cui viene arrestato un latitante di mafia e non si fa subito la perquisizione. E che latitante! Però vi aveva dato una spiegazione. Lei con Caselli lavorava su Totorina, su tutto quello che succedeva qui a Palermo. Perché si è arrivati a non perquisire? Nella caserma dei carabinieri, dove era stato portato già Rina arrestato, c'era un gran trambusto, gran movimento, grandi preparative, si stava proprio creando una colonna di auto. Poi le indagini e i processi l'hanno accertato, una colonna di macchine e carabinieri pronti per venire qui in forze, perché non si sapeva esattamente quale villa fosse. C'era perfino il mio collega, il dottore Patronaggio, che era il sostituto di turno quel giorno, pronto a dirigerci, c'era il generale all'epoca maggiore, Balsamo, che guidava la territoriale e poi venne il controordine. La mia autovettura era già sotto la sbarra della caserma, ferma, con altre 4-5 autovetture dietro, che doveva, insieme ai colleghi del gruppo territoriale di Palermo 1, andare a fare questa ricerca quale fosse l'immobile dove stava Rina, perché dentro comunque non c'eravamo mai stati, quindi non sapevamo. E dopo tutta una serie di convenevoli, capannelli, perché si può immaginare tutti i magistrati, tutti i generali, tutti i giornalisti, c'era una parca euro, c'era. Riusciamo a mantenere l'ordine, a prepararci, facciamo accudire il personale nel frattempo che serviva e mentre stavamo uscendo, vengo fermato, mi chiamo di selezione, i suoi colleghi che devono parlarle, così torno indietro verso questi capannelli e si va avanti in una discussione fra magistrati ufficiali, eccetera, ognuno che faceva delle proposte, capisco che, perché lo sento poi, che Sergio De Caprio e anche i suoi colleghi da Rosso, penso anche a Colomero Modi, sicuramente, stavano dicendo che era una cosa buona rinviare la perquisizione per mantenere l'osservazione su Via Bernini e vedere se altri personaggi mafiosi o altri italiani tanti altri familiari si fossero recati una volta saputo dell'arresto. Se noi stiamo a distanza ma la teniamo costantemente sotto osservazione, vedrete che ne pigliamo qualche altro di latitante, verrà magari Luca Bagarella, il cognato Irina a prelevare la moglie Bagarella di Totorrina, i figli e prendiamo pure Bagarella. Bagarella, un gran corpo, una cosa, diciamo, sulla carta, geniale anche, teniamo sotto osservazione, stiamo lì coperti, cosa nostra non sa che è stato scoperto, perché? Perché Irina era stato arrestato distante da qui, era stato arrestato in mezzo al traffico, a qualche centinaio, 500 metri circa da qui. Venne fatta anche una finta operazione, perché nei giorni successivi per sviare l'ipotesi di individuare il cognato, non lontano, vicino a Palermo, insomma. Esatto, Fondo Gelsomino si chiamava. E tutti i tg della sera, qualche giorno dopo, fanno vedere questa grande scena, esatto, elicotteri, i bulldozer che sfondavano i cancelli per trovare la villa di Irina, grande blitz, grande perquisizione, eccetera, ma era tutta una finta. Anche questo era stato un diversivo che era stato suggerito dai carabinieri per dire diamo la conferma a cosa nostra che noi non stiamo brancolando nel buio. Per i carabinieri della legione di Palermo l'ultima base di Salvatore Irina si troverebbe in un vasto apprezzamento di terreno. In questo podere, secondo i militari, Irina avrebbe trascorso l'ultima parte della latitanza. Ma che senza aveva a farlo se mancava il presupposto di questa simulazione? Perché quella fu un'operazione simulata che fu soltanto i contribuenti. Però fu simulata per chi? Ma valeva questa simulazione qualora il luogo di effettiva residenza di Irina e della sua famiglia fosse tenuto sotto controllo, sotto osservazione? La sua osservazione era già cessata dal 15. Che senso ha simulare questa mega operazione mediatica per far credere a Cosa Nostra? Cosa Nostra per anni si interrogò gli uomini di Cosa Nostra, i vertici si interrogarono ma che significa non se lo riuscivano a spiegare? Tant'è vero che si ipotizzò che potesse essere un modo per non a far renare la trattativa per dire un occhio di riguardo per evitare questa è una tesi che si è sottolineata non per cui siamo i documenti spariscono li diamo a qualche di un altro ce li teniamo noi ma comunque era un messaggio di pace il comprensorio era di proprietà non di un personaggio qualsiasi era proprietà di un signore che era molto noto nel mondo mafioico Sansone sì e probabilmente fu proprio la chiame per l'individuazione di Totorrina qui una chiave che secondo le acquisizioni più plausibili non fu né di Mori né del capitano ultimo ma del maresciallo Lombardo maresciallo Lombardo chi era? era un investigatore valido ma era come dire un maresciallo di paese nel senso anche buono di portante del termine non faceva parte del ROS non faceva parte dei nuclei investitori stava terrassini in quel periodo guarda caso in quel periodo viene distaccato e collabora con il ROS e si è poi ricostruito dalle indagini che aveva partecipato a tutte le riunioni che si fecero attorno alla vicenda Rina e come mai un maresciallo di paese sempre tra virgolette si ritrova in questo ruolo e poi attenzione l'amoreciallo Lombardo è quello il quale si suicidia e lascia una lettera terribile del suo suicidio che è un atto d'accusa nei confronti di tanti ma è un atto d'accusa soprattutto nei confronti dei suoi superiori Fabio ciao Massimo eccoci davanti Massimo grazie eccoci qua eccoci qua tuo padre eccolo lì mio padre sì mio padre era assieme ai suoi ai suoi idoli dalla chiesa generale della chiesa con cui ha lavorato a Corleone e si stimavano tantissimo entrambi salvo d'acquisto Falcone e Borsellino che idea si è fatta che il marecello Lombardo venne usato e gettato via perché il marecello Lombardo aveva portato all'arresto di Rina è lui che portò qui il il Ross è lui che fu decisivo e non venne e venne misconosciuto questo suo ruolo gli diedero soltanto questo piccolo contentino di comparire su tutte le televisioni del mondo peraltro inquadrato di spalle quindi lo potevano riconoscere solo i pochi che lo conoscevano bene in questa terra a me a me dispiace dirlo se sei bravo in questo lavoro l'unica tua uscita è quella in orizzontale è quella di morire e lo abbiamo visto chi non è morto nella guerra di mafia è perché non ha mai fatto niente chi era tuo padre? aveva il fascino del comandante in stazione vecchio stampo e nello stesso tempo dell'investigatore di altissimo livello era uno che riusciva ad entrare in confidenza con i numeri 1 ma sì della mafia lui aveva lui aveva confidenti di qualsiasi grado all'interno della mafia dal capo di Cosa Nostra all'ultimo all'ultimo grado al soldato di Cosa Nostra Borsegno diceva che per capire qualcosa di mafia bisogna parlare con il maresciallo Lombardo con il tuo padre sempre qualsiasi notizia aveva bisogno Borsellino veniva sempre dal maresciallo e mio padre promise alla vedova Borsellino promise l'arresto di Totorrino per vendicare la morte del marito ecco ma che ruolo ha avuto tuo padre? allora mio padre ha avuto penso il ruolo principale perché senza le informazioni di mio padre sia ultimo della sua squadra e chiunque altro faceva finta di cercarlo non l'avrebbero mai trovato a proposito della cattura di Totorrino c'è un documento che tuo padre aveva scritto proprio a luglio del 92 quindi quasi sei mesi prima 29 luglio 1992 ecco cosa diceva in quel documento? lui diceva che per arrivare a Totorrino bisognava seguire i fratelli Sansone e Raffaele Ganci fonte confidenziale di comprovata attendibilità ha riferito che in atto la latitanza del noto mafioso Orrina Salvatore viene favorita dalle famiglie mafiose della noce Ganci Spina e dai fratelli Sansone dell'uditore la stessa fonte ha riferito che uno dei figli di Raffaele Ganci svolge le mansioni di autista guardaspalle del capo mafia quindi lui molti mesi prima della cattura di Totorrino già sapeva dove andarla a prendere il figlio conserva un documento con su scritto a luglio 92 una serie di cose tipo confidente importante dice che Totorrino è gestito dei fratelli Ganci fa il nome di quell'uomo vicino che era l'uomo di guardaspalle l'autista parla di Sansone non vi avevate mai scambiati qualcosa visto che voi comunque con la territoriale avevate i rapporti eccetera non hai mai saputo niente di questo scritto no assolutamente no lui diceva anche lui aveva avuto indicazioni che i ganci avevano contatti con Rina questo lo diceva voglio dire lo dicevano insomma però ecco informazioni precise per esempio che macchina usava questi ganci lui non era in grado di dirlo quindi erano diciamo notizie concettuali però erano notizie diciamo concetto questo nome incredibile incredibile e in questa relazione che il figlio ci fa vedere è lì ed è il nome che lei ha citato prima che la territoriale non trovava però non trovava Banduccio di Maggio ha indicato ha detto anche nome e cognome non so io in che termini erano le indicazioni di Lombardo ma quella di Banduccio di Maggio era chiarissima tanto è vero che noi avevamo anche la foto di questo personaggio perché aveva dato proprio era stato identificato non è che era una era infatti era la pista principale attraverso la quale la procura della Repubblica e l'arma territoriale che gestivano di Maggio giustamente avevano puntato tutto su questa pista quindi per loro hanno dato anche poca importanza alla mia richiesta di poter osservare via Berlini perché avevano già in mano Rina insomma infatti nella casa dove stava questo Di Marco che è arrivato Di Marco quindi quello da casa è arrivato effettivamente lì non è andato in campagna se l'hai trovato lì se l'hai trovato lì improvviso però scusi vabbè però insomma voglio dire alla fine è curioso alla fine se era sotto osservazione degli altri è curioso Rina Salvatore è stato catturato dai carabinieri questa mattina a Palermo scopri tutto durante il Tg e gli dissi mamma ma papà e mia madre gli disse papà è andato a portare a dottor Rina per lui è fatta quando tornò a mio padre logicamente gli feci i complimenti lui in quel momento era veramente felice soddisfatto soddisfatto e mi disse soltanto la frase ce l'abbiamo fatta non disse ce l'ho fatta ma ce l'abbiamo fatta la delusione arrivò dopo arrivò dopo perché gli venne riconosciuto soltanto nel comio semplice e per per ciò che fece lui per l'arresto di Tottor Rina era poco a tal punto lui si vergognava pure a mostrarlo lui lo ha sempre tenuto nel cassetto e non non voleva neanche mostrarlo col senno di poi posso dire ma cos'è va sotto questo si cattura di Tottor Rina si vendica Paolo Borsellino vai in America prendi i badalamenti lo porti qua cambi la storia d'Italia ma io avrei preferito più avere mio padre accanto sinceramente hai citato badalamenti badalamenti sì ecco badalamenti era un rapporto molto forte con tuo padre sì con badalamenti il rapporto inizia badalamenti è uno dei più grandi nomi della mafia badalamenti è stato il capo di Cosa Nostra il capo della cupola badalamenti era negli Stati Uniti era sì era detenuto negli Stati Uniti e essendo un uomo così importante capo della cupola eccetera portarlo in Italia poteva voler dire cercare di entrare in altri segreti magari fin troppo ecco però badalamenti diceva io torno in Italia se viene a prendermi no solo se solo se mi viene a prendermi la scena non se mi viene solo penso che la sua morte inizia quando badalamenti dice sì al ritorno in Italia penso che lì sia stata decisa la morte del marescia lombardo perché badalamenti in Italia non doveva arrivare è l'unico motivo come si poteva fermare badalamenti l'unico modo per fermare badalamenti era fermare il marescia lombardo avevano già i biglietti avevano già tutto era già stato deciso tutto tutto però i superiori a un certo punto chiamano quando mio padre viene a sapere dell'annullamento penso che ha capito veramente di essere un uomo morto che camminava tu dove eri? ero fuori con degli amici che sono tornato a casa intorno alle due e mezza chi ti ha avvisato? non mi ha avvisato nessuno arrivai e vidi la strada piena di auto sono sceso dalla macchina lasciai la macchina accesa cominciai a correre e quando vidi tutte le persone qua davanti ho capito che era finita in quel momento devo essere sincero non mi è uscita neanche una lacrima ero incazzato ero incazzato a tal punto di avere accanto mia sorella che piangeva e neanche la guardavo neanche la guardavo perché ero incazzato è incazzato perché per come mio padre era stato trattato sia a livello istituzionale e soprattutto dall'arma dei carabinieri l'arma dei carabinieri così dispiaciuta della morte del marascialo lombardo che adesso penso proprio che sia stato trattato peggio di un cane randaggio viene a dare la notizia alla famiglia l'allora comandante della compagnia di carini il capitano Muggivera prende mia sorella per le braccia la strattona in modo violento e gli grida in faccia dove sono i documenti di tuo padre dove sono i documenti di tuo padre mia sorella logicamente continua a piangere era disperata dice ma di che cosa sta parlando ma cosa vuole stiamo parlando comunque di una ragazza di 16 anni e mia sorella gli dice guarda vedi nel salotto non so ma di che cosa sta parlando prende mia sorella per il braccio la strattona la porta verso il salotto e vedono che già ci sono dei carabinieri che controllano i cassetti quindi loro non vengono a dare la notizia a mia madre ma loro vengono a fare una perquisizione mai verbalizzata con questo cosa voglio dire l'arma cosa cercava cercava dei documenti di mio padre e che documenti cercava sono riuscito a vedere a vedere mio padre soltanto nelle foto ecco questa è molto molto dura questa è una foto durissima tuo padre si è ufficialmente suicidato con un colpo di pistola al tempio così dicono e questa è una fotografia che però indubbiamente lascia molti dubbi no? io sfido chiunque chiunque qualsiasi perito balistico a dirmi che questo è un suicidio chiunque io sfido chiunque qualcuno a me sembra sembra più sembra più una scena hollywoodiana Massimo perché è impossibile che dopo che ti suicidi dopo che ti spari alla tempia vai a finire in questa posizione impossibile impossibile e poi è strano è strano guarda qua c'è una pistola no? il colpo sarà stato forte il boato sarà stato fortissimo ma stranamente non esiste un carabiniere che abbia sentito il colpo di pistola nessuno tranne il capitano De Gabriel conosciuto come ultimo c'erano dei carabinieri del battaglione del dodicesimo battaglione carabinieri in Sicilia che c'è un luogo dove si caricano e si scaricano le armi io ero lì mentre loro scaricavano le armi che mentre scaricavano le armi ho sentito si è sentito un colpo e io immediatamente pensato che era partito un colpo durante le operazioni di scaricamento delle armi e gli ho detto dite una preghiera stasera perché dico è andata bene invece un attimo dopo è arrivato il maresciallo Thor e mi ha detto guardi c'è uno che sta male nella macchina siamo andati a vedere e c'era Lombardo che era morto praticamente abbiamo chiamato l'ufficiale di guardia c'era il sotto ufficiale di ispezione e il sotto ufficiale di ispezione ha proprio dovuto avvisare tutti hai sempre lottato per la tua famiglia ora lotteremo noi continueremo a lottare per quello in cui hai sempre creduto l'onestà è la giustizia è stata fatta l'autopsia? assolutamente no sai cosa mi hanno risposto quando noi abbiamo abbiamo chiesto ai magistrati perché no è stata fatta l'autopsia un gesto d'umanità tu ancora mio padre me lo devi fare vedere sanguinante non ti preoccupare che io non mi impressiono il sangue di mio padre è il mio sangue tu non fai l'autopsia per non sapere come dove e quando è morto il maresciallo Lombardo non per un gesto di umanità Massimo loro trovano il maresciallo Lombardo la famiglia viene avvisata due ore dopo la famiglia arriva davanti al cadavere già nella bara all'interno della bara alle sei del mattino quindi parliamo quindi parliamo di otto ore dopo e io vado a vedere mio padre già bello vestito in divisa con la fascia in testa dentro una bara fino a quando io non vedrò il nome di mio padre accanto a quello di Falcone e Borsellino io non mi fermerò all'interno di questa zona si sapeva che c'era una villetta dove c'era il covo di Ri vi hanno detto non sappiamo quale sia però noi controlliamo i cancelli esatto Mori in particolare come capo diciamo dei carabinieri del Ross in quel momento aveva dato l'assicurazione che l'osservazione sarebbe continuata è vero che poi voi scoprite che in realtà in questo comprensorio non c'era solo un'unica uscita ma ce n'era un'altra che dall'altra parte che però no poi capite che non è mai stata controllata assolutamente purtroppo è quello che si scoprì dopo perché il Ross rivendicò l'autonomia la piena autonomia operativa e venne dato loro garza bianca come procura dire siamo sereni il controllo c'è passano però i giorni e qualcosa a un certo punto in modo incredibile vi fa capire che in realtà questo controllo non c'è mai stato chi è che vi fa capire che qui non c'erano carabinieri a controllare il territorio una segnalazione che arriva da Corleone dopo quanti giorni e dopo tanti giorni arriva la segnalazione che la famiglia Rina è tornata a Corleone e subito ci si domanda ci si domanda ma scusate ma l'avete vista uscire? Gioacchino la Barbera si preoccupò di portare la famiglia cioè Ninetta Bagarella e i figli alla stazione centrale ferroviaria di Palermo dove presero un taxi e tornarono a Corleone senza che nessuno se ne accorgesse no nessuno proprio nessuno fin quando non ha parlato era dopo alcuni giorni quindi fu ufficiale la loro comparsa ma nessuno se ne era accorto tu sei stata l'unica giornalista a entrare nella casa di Totorino si qui a Corleone dopo l'arresti di Totorino c'erano giornalisti di tutto il mondo e la famiglia era tornata a vivere qui Ninetta Bagarella sorella di Luca Bagarella poi Irrina e quattro figli usciti come così dal nulla di una latitanza che l'aveva inghiottiti per moltissimi anni questa è proprio l'abitazione è rientrata qui è un'abitazione a tre piani come sono queste case che si svolgono in altezza lei sta ancora qui vive in questa casa lei vive qui e credo da sola ora perché i figli forse il secondo che ha terminato di fare il soggiorno obbligato è stato in carcere non so dove sia ora proviamo a vedere se risponde se c'è il campanello eccolo là sì distanza di tanti anni forse non è in casa non c'è la signora? non non l'ha vista non in questi giorni non si è vista però vive ancora qui no? che impressione hai avuto quando sei entrata? che cosa ti hanno raccontato anche le figlie tu hai intervistato? volevo intervistarle ed ero molto attratta dal capire che cosa questi ragazzi che erano piccoli perché Lucia la più piccola aveva 10 anni 11 anni che si erano ritrovati così ad uscire con un cognome nuovo no? con un cognome nuovo Lucia la piccolina nella latitanza era era Bonomo era il cognome che si era tutta Rina e lei mi colpì moltissimo questa ragazzina così bella con questi occhi vispi una ribelle che voleva mi raccontò che il suo sogno era quello di andare a New York di fare l'artista e mi raccontò io andai mi portò nella sua cameretta dove aveva scritto sul muro della cameretta Lucia Bonomo Lucia Bonomo Lucia Bonomo per riappropriarsi di quel cognome di quella identità che le era stata strappata dal giorno dell'arresto o meglio dal giorno in cui lei seduta mi raccontò sulle ginocchia del padre vedevano le immagini della strage di Capaci scorrere sul televisore lei guarda il padre Totorrina ma tu non sei quello ma no è tutta un'invenzione dei giornalisti ovviamente la risposta è lì come dire il trauma il trauma tant'è che in un'intercettazione in una conversazione in caccere di Totorrina con Russo lui racconta a dimostrazione che ciò che mi raccontava Lucia fosse vero che il giorno della strage di Capaci mandò Giovanni il suo primo genito ad acquistare un quotidiano in edicola perché dice ma che saranno tutte queste ambulanze queste sirene che sta accadendo cerchiamo di capire mentre lei la moglie diceva furbacchiotto furbacchiotto furfante beh ovviamente sapeva ma questo ha dimostrazione il fatto che i figli erano vivevano in fondo e lui racconta anche come vivevano la normalità minchia gli ho detto Giovanni ma che c'è con questo bordello che fanno le macchine che sono e a prendere il giornale così sentiamo che cosa c'è mia moglie ascoltava dice ma che farebussiere se è un farebussiere non mi dice niente sì lei si sta zitta però ha visto farebussiere vuole sapere che c'è che c'è con questo bordello e lui mi schiede nocente nocente sì ragazzi va a prendere il giornale rivolta il giornale convinto pure che papà non sapeva niente minetta bagarella è stata la prima donna di corleone a iscriversi all'università palermo in filosofia e quando io entrai nella sua casa sul comodino aveva al di là del bene e del male questa era la sua lettura quindi una donna appassionata una donna intelligente che è innamorata follemente di quest'uomo e lei lo racconta lo racconta e fece questa questa ringa potrei definirla quando venne condannata al soggiorno obbligato lei disse non potrete mai impedirmi di amare quest'uomo e quindi lo seguì nella latitanza lei l'ha sempre difesa ha difeso il suo amore il suo amore per lui un amore assolutamente si sposarono prima in chiesa sposò un sacerdote ovviamente e poi lei ebbe l'autorizzazione per sposarlo in carcere e lei si presentò con un cogliaire con un cogliaire di rubini e smeraldi a questo matrimonio in carcere la moglie di Provenzano quando a lei chiesi ma la moglie di Provenzano la signora Palazzolo è tornata a vivere a Corleone perché sai che loro hanno vissuto per molti anni in Germania e dico la conosce la frequenta lei fece così una sartina cioè la liquidò con questa con questa frase per dire è un altro livello da me cioè in fondo il suo marito era il capo dei capi tutto il resto veniva dopo prima di andarmene mi disse aspetti c'è un regalo per lei e si presentò la mamma di Bagarella quindi sua madre e con un vassoio di cannoli caldi fatti appositamente per me e io ricordo che tornai a Milano allora vivevo a Milano e li mesi nel congelatore però non ebbi mai la forza di mangiarli perché forse mangiando un cannolo mi sarebbero tornati in mente affetti che avevo perduto per causa loro lei ti disse una cosa importante salutandomi e così poggiando la sua mano sul mio gomito così mi disse lei con il tempo capirà che non siamo i peggiori e io rimassi davvero così molto colpita da queste parole e disse ma cosa intende con il tempo capirà a voi non aveva mai comunicato che ha smesso di controllare assolutamente no a quel punto si è per un confronto abbastanza duro tra Caselli voi e Mori lo indagate assolutamente no succede che viene fatta una lettera di dura contestazione da parte di Caselli indirizzata a Mori Mori risponde che rientrava nell'autonomia operativa e decisionali dei carabinieri di smettere il servizio che secondo loro il servizio esponeva rischi e stress perché si è scoperto mentre inizialmente si era capito che c'erano dei servizi fissi telecamere sui pali invece in realtà si è scoperto che l'unica telecamera era dentro una cosiddetta balena c'è un'auto civetta diciamo così dei carabinieri quella dove stava dentro l'ultimo stava con Di Maggio venne riconosciuto e loro dicono beh non possiamo tenere degli uomini allo scoperto a nottetempo che possono essere preda delle rappresaglie mafiosi ma non ce lo dico viene fatta una riunione intorno al 26 gennaio credo era un giorno del genere e Caselli chiede notizie allora c'era il colonnello Mori sicuramente forse anche con qualche suo ufficiale la risposta fu una risposta direi interlocutoria nel senso che non la capì bene non si capì bene sì dovevamo farlo però poi ragioni di sicurezza il personale era stanco le condizioni non lo permettevano benissimo ma perché non avete avvisato i colleghi con cui avete lavorato fino al giorno prima e magistrati poi diranno addirittura al processo in fondo che poteva mai tenere Totò Riina dentro la sua villa in merito alla vicenda condessa alla cottura di Riina il tribunale di Palermo conclude a suo tempo affermando che la decisione volta alla dilazione a dilazionare la perquisizione della villa abitata dalla figlia della famiglia del capo di Cosa Nostra fu presa d'intesa tra magistratura e carabinieri che nella fattispecie concordemente e tra i magistrati presenti c'era anche il dottor Patronaggio sostituto procuratore della recuperità di turno quel giorno ritenono di dovere correre i rischi di tale impostazione investigativa la motivazione della sentenza recita infatti testualmente questa opzione investigativa comportava evidentemente un rischio che l'autorità giudiziaria scelse di correre condividendo le valutazioni espresse dagli organi di polizia giudiziaria sulla rilevante possibilità di ottenere maggiori risultati commettendo di eseguire la versione ufficiale che è emersa anche durante il processo è che in realtà voi avete smesso di controllare quella zona via Bernini noi abbiamo impostato l'attività per seguire i fratelli Sansone partendo da questo luogo dove c'erano c'erano anche un'altra abitazione loro all'interno di questo comprensorio quindi era logico partire da questa casa da questo comprensorio perché ci abitavano anche loro avevano proprio un'abitazione loro dopo un giorno due giorni il maggiore Ripollino Roberto Ripollino in maniera per circostanze che non so spiegare rivelò effettivamente che il covo la casa da cui era uscito Torino era via Bernini 54 alla stampa lo comunicò quindi disattendendo le disposizioni della procura della Repubblica e arrivarono sul posto prima giornalisti a piedi poi truppe televisive quindi noi ripiegammo immediatamente aspettando il tempo trascorso il quale i fratelli Sanzone avrebbero ripreso la normale attività e noi con tutta non calma noi con tutta sicurezza avremmo potuto riprendere il servizio come abbiamo fatto sempre anche con i ganci della noce nessuno ci ha mai chiesto come mai non abbiamo delle volte interrotto i pedinamenti su ganci Raffaele o su ganci Calogero o su ganci Domenico o su Anselmo Francesco Paolo e stiamo parlando di killer noi pedinavamo i killer i killer che hanno pedinato e ucciso Falcone noi li abbiamo pedinati ganci Calogero noi li abbiamo pedinato ma li abbiamo pedinato perché non ci siamo fatti vedere perché abbiamo capito quando era il momento di seguirlo e quando è il momento di lasciarlo andare come quando si pesca un pesce importante questa è la professionalità di un combattente siamo combattenti e quindi i meccanismi della lotta per vincere sono questi tutto il resto è esercizi quindi a chi dice che in realtà la mancata perquisizione era un accordo con l'ala di Provenzano per favorire Provenzano mettere fine alle stragi e non entrare dentro la villa di di Reina dice queste sono delle illazioni io credo che tutti possano speculare su tutto possono creare manipolazione per fini non so diversi da parlare al popolo e dire la realtà io dico quello che ho visto quello che io insieme a pochi carabinieri di basso grado abbiamo constatato e la questione era questa noi abbiamo parlato dei fratelli Sansone la procura della Repubblica di Palermo era perfettamente consapevole di questo tanto è vero che non c'è stato ordinato di sequestrare tutto ciò che usciva da questa casa se l'ipotesi fosse stata quella che nella casa c'era una cassaforte con il tesoro di Reina o i documenti della Nato allora avrebbero avuto il dovere intanto di dirlo a noi e poi di fare un bel decreto in cui ci ordinavano di perquisire e sequestrare tutto ciò che usciva da quella casa non lo hanno fatto hanno omesso di fare questo gravissimo se sapevano questo e ne devono rispondere io voglio capire se in procura alla notizia di quello che non era successo e avrebbe dovuto essere comunicato ci sia una spaccatura tra voi magistrati su quello che era l'operazione condotta da Mori beh spaccature però diciamo che ci fu un dibattito un dibattito interno il procuratore del tempo Caselli ritenne che la sua ferma presa di posizione e la ferma critica in quella corrispondenza perché va detto fu una prima lettera la risposta di Mori e ancora un'ultima lettera di Caselli messa agli atti e comunicato diciamo agli organi competenti compreso il ministero degli interni eccetera eccetera fosse sufficiente come diciamo la risposta di posizione voi non l'avete indagato subito quindi venne aperto un'indagine formale soltanto qualche anno dopo e perché? perché questa fu la decisione che venne presa dai vertici dai vertici dell'ufficio perché non si ritenne che quella condotta era una condotta tale da poterla definire di reato ieri era venita il film e il primo a dispegne era un uccitato canale tra i due stavolette acquistando il generale monto che dice? ora ha detto quella per tutti i giorni non l'avevamo fatta perché ritenevamo che rinno che era divertente che sapeva non potreste venire a casa dopo il depopolo del depopolo del depopolo del del depopolo del del depopolo del depopolo è vero che si decide in procura di agire dopo molto tempo solo dopo che il padre di quel piccolo bambino sciolto nell'acido Santino di Matteo inizia a collaborare e vi dice delle cose su quello che sarebbe accaduto davvero quel giorno Santino di Matteo dice una cosa enorme e cioè dice di aver appreso da Balduccio di Maggio che lui aveva in mano uno strumento di ricatto potentissimo nei confronti dei carabinieri e di Maggio dice a me non possono fare nulla so cosa loro hanno preso dentro la villa perché la perquisizione l'hanno fatta davvero e l'hanno fatta di nascosto ovviamente all'insaputa dei magistrati secondo quanto dice questo pentito i rossi avrebbero perquisito la casa lo stesso questa fu l'accusa di Di Matteo e questo ci impose l'apertura di una indagine formale però la dichiarazione venne smentita da Di Maggio Di Maggio negò di avere mai detto queste cose di Matteo fu fatto un confronto anche abbastanza acceso e drammatico fra i due ciascuno rimase sulle sue posizioni però non potevamo a quel punto che l'indagine si era aperta e siamo andati siamo andati avanti anche perché nel frattempo rispetto alla situazione del 15 gennaio del 93 e beh ci sono state tante altre acquisizioni qualche anno dopo erano già venute come già da venire fuori le vicende relative al papello qualcosa anche relativa alla ipotesi di trattativa tra i contatti che c'erano stati fra Mori e l'ex sindaco di Palermo e Ciancimino insomma c'erano state una serie di acquisizioni che faceva ritenere che forse non si era davvero trattato di un semplice equivoco o di presunta autonomia operativa da parte dei carabinieri che l'ordinamento non riconosce ma c'era qualcosa di più questo papello deve essere la mia firma deve essere scritto mio se ci sono io sono qua lei ha mai scritto un papello non so mai niente non ho scritto mai niente e chiedo di avere fare di noi non ce l'abbiamo questo papello no no lo chiedo all'avvocato di documentarsi perché io non ho mai c'è stato niente non ho mai incaricato a nessuno siccome questo signor Ciancimino dice che un giorno o altro lo uscirà lo uscirà questo papello perché però ha difficoltà a curare il Ciancimino e il Ciancimino sono da volentare sulla luna a voler già recuperare i soldi e a voler recuperare da volarci per recuperare i soldi per tutta la sua pace io gli do la sua scorsa signor procuratore lei dice io non la posso scrivere questa risposta non mi va bene ma io gli ho la scorsa come vede il Ciancimino si risponde e si risponde questo tanto lui e tanto Spatuzza e tanti venditi i venditi vi fanno vi usano per i mezzi propri la prego signor procuratore no 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 non siamo lui venga dicendo non prese le mie parole per ora però io di tutte queste fatte sono oscuro non sono niente non ho trattato con nessuno loro facevano i trattativi con le donne con i mori con le azze è iniziata qui lì l'indagine vera e propria con l'approfondimento con l'audizione di tutti i responsabili di quella operazione dei carabinieri della territoriale i carabinieri del Rosso per individuare cosa effettivamente era accaduto perché era stata sospesa furono acquisiti tutti i fotogrammi di quelle insomma anche perché furono anche altre cose strane per esempio un ufficiale dei carabinieri secondo la testimonianza di alcuni giornalisti che capitano dei doni esattamente proprio lui secondo le deposizioni di due giornalisti importanti che erano Artilio Bolzoni e Saverio Lodato avrebbe detto il giorno dell'arresto di Riina dentro la caserma ci sono delle cose venute fuori dal covo Riina e che appena verranno fuori queste cose qualcuno dovrà scappare via dalla Sicilia vergognandosi lasciando intendere che qualcuno sapeva cosa ci fosse però questa versione è stata ovviamente smentita dalla De Donno e ad ogni modo poi sono venuti i pentiti che hanno raccontato che la villa venne svuotata da Cosa Nostra certo è che qualcuno la svuotò ci sono sentenze che appunto danno per provato che furono i mafiosi a svuotarla ma certo è che la svuotarono gli venne la sospensione dell'attività di osservazione consentiva di svuotarlo e secondo altri pentiti svuotarla di cose davvero importanti ci sono più fonti che parlano di documenti custoditi da sempre nelle abitazioni del Dottore quindi dei documenti c'erano cosa fossero non si sa però stiamo parlando del capo dei capi è impossibile che non gli fosse stato trovato nulla che riguardasse la sua attività di collegamento di contatto un appunto un pizzino chiamatelo come volete ma non è pensabile che non ci fosse nulla ed io personalmente personalmente ma penso legittimamente ritengo di dire che quell'appartamento qualcuno lo ha visitato e non solo per ripulirlo e non sappiamo chi lo ha visitato per prima sappiamo che ufficialmente lo Stato c'è entrato dopo 18 giorni ma se la nostra parte dello Stato c'è entrato prima io lo ritengo legittimo c'era una villa come una piscina una grandissima taverna su due lati la villa su più livelli c'erano delle stanze vuote qualcuna completamente vuota c'erano i mobili messi nel centro della stanza e coperti con delle celofan protettivi e poi c'erano in un bagno e in alcune stanze a livello tinteggiatura o presunto tale c'erano dei segni che ci potevano essere delle attività in corso di ristrutturazione nei bagni delle piastelle di Elte probabilmente avrebbero rimesso a posto casa ma hanno anche verniciato i muri sì c'è stata anche qualche attività sicuramente mi ricordo una stanza a sinistra proseguendo per la casa dove c'era un solo mobile che era una specie di piccola libreria con un'alta un vuoto e dei cassetti solo quella mi venne istintivo non so di andare a toccarla a spostarla e fu lì che trovavamo il famoso biglietto con cui poi si risalì con certezza al fatto che non c'era stata la mia un biglietto scritto di scuola a quadrettini scritta era una bambina che diceva sono molto amica di Rosa Gambino e di Giuseppina X che erano nome di mafiosi e lei era Maria Rosaria Rina credo che l'avesse scritta quindi quella era la prova che lì era la prova l'unica l'unica esclusione delle altre un bigliettino con i nomi dei mafiosi della figlia di Rina quello era c'era una scala che scendeva al piano sottostante e sul lato della parete c'era tutta una serie di cassettoni di legno di coperture di legno questo è successo dopo un po' di tempo era ben occultata si riuscì a aprirne una e c'era un cunicolo quindi altro indizio che un cunicolo che portava fuori dal comprensorio quindi lungo si io non ci sono andato qualcuno ci è andato e mi riferì così quindi se per ipotesi si fosse fatta la classica operazione di andare fuori casa di Rina a fare la cosa scappava da là questo altro segno del destino che andò bene così quella mattina eccola qua questa è la villetta all'interno del comprensorio dove per anni diciamo Totorino aveva molti rifugi molti covi ma questo è uno dei più importanti certo che effetto ne fa vederla oggi nelle mani dello Stato una stazione di carabinieri è un successo che lo Stato riconquista anche simbolicamente pezzi del territorio che sono stati sottratti ho letto dei verbali dove Giuffrè un altro pentito molto importante anche lo stesso Brusca insomma raccontano che Totorino era solito avere una cassaforte nei luoghi dove si nascondeva dove inseriva molti documenti è così? esatto Brusca dice proprio che Brusca era molto vicino a Totorino che in ogni covo perché Torino si era spostato in diverse in diverse case in ogni covo lui si portava sempre con sé il documento a cui teneva di più e spesso aveva delle cassaforti dove le nascondeva nella villa c'era nella villa poi venne trovata come venne trovata? venne trovata smurata praticamente asportata si portarono via perché hanno fatto il buco per poter prendere tutto quello che stava dentro quella cassaforte e Giuffré l'uomo vicino invece a Bernardo Provenzano diciamo l'altra faccia della luna l'altra faccia di Cosa Nostra dice che Provenzano sospettava che lì sospettava fece intendere Provenzano fece intendere che lì poteva esserci una copia del famoso papello la cassaforte dove era scusi? era subito entrando quanto era fisicamente alta così com'era? era stata circa 70 cm di altezza non arrivava al metro profonda? una quarantina cinquantina beh insomma la cassaforte ci stava colorata oro verde era tutta chiusa eccetera fu poi bucata dal di dietro dalla stanza di dietro perché non si riusciva ad aprire comunque era completamente vuota quindi le tolgo ogni dubbio vuota? beh certo questo è un'altra cosa poi si è ricamato per anni se c'era il papello famoso che disse Ciancimino se c'erano altre cose così altri pizzini però non lo potrà dire mai nessuno in quella casa si dice che ci fossero carte importanti evidentemente si se gli hanno dato questo tempo di ripulire è perché c'erano qualcosa di importante ma che cosa secondo lei ci potrebbe essere dentro? a livello documenti sicuramente ma sa che si parla di famoso papello si parla di documenti documenti perciò qualcuno sarà stato d'accordo a dargli del tempo per portare via tutto tra quel documento secondo lei c'era anche potrebbe esserci anche l'agenda rossa di Borsellino? questo non lo so questo non lo so so che poi ci sono stati incontri per questa agenda rossa che incontri? incontri che preferisco per adesso non approfondire c'è qualche copia in mano a più persone sembra quasi che lei dica l'ha presa l'ha copiata per darla a più persone perché quello è il vero oggetto forse della trattativa chi ha quei documenti è il padrone di tanti segreti chi ha quei documenti sa che tu ce li hai tu ce li hai evidentemente nessuno di quelli può fare può fare può fare giochetti strani vaiardo che è un uomo importante vicino a graviano uno dei super boss della mafia dice che in realtà in quella cassaforte ci sarebbe stata anche la famosa agenda rossa è credibile? io devo dire la verità ci credo poco perché bene o male la agenda rossa chi la prese ci sono perfino i filmati che ci fanno intendere che chi entrò nella macchina per primo sono stati uomini dello Stato e c'è lì una foto famosa che ritrae un ufficiale dei carabinieri che era con la borsa in mano allora se in quella borsa c'era l'agenda rossa e se poi quella borsa o l'agenda venne consegnata a qualcuno certamente quell'ufficiale dei carabinieri non la consegnò agli uomini della mafia la consegnò agli uomini dello Stato io posso dire perché cosa tutte si dicono che che c'era questa agenda che c'erano queste cose che c'erano queste appunte e poi non ci sono al genere allora io posso dire questo un discorso della città se siete vizi segreti che cosa facevano e cosa hanno fatto è quello che noi stiamo cercando di capire per questo che siamo qua io se lei si può dare io se ci avessi avuto contatto con queste signore io direi ci ho avuto contatto oppure queste signore dell'anno ho avuto contatto ma non io non ho avuto contatto con nessuno signor io però voglio darti che questi contatti gli abbia avuto è giusto ma io non so se sono ragazze che hanno avuto io non ho interrattato a nessuno ma io non ho avuto I documenti che erano qua dentro sono quelli forse decisivi per la trattativa? Quelli decisivi per la trattativa? Probabilmente oggi sapremmo tante verità su quella stagione delle stragi se avessimo messo le mani su quelle carte. Dottorina si dice avesse molti documenti in quella casa, in quella villa. Certo doveva averne una quantità enorme, pensi che quando l'abbiamo arrestato nelle sue tasche nel Borsello abbiamo trovato un'enorme quantità di documenti, di pizzini, sui quali abbiamo indagato per moltissimi mesi, per anni, perché si riguardavano rapporti a palti, grandi opere, distribuzione di lavori, sottoposizione a pizzo, messe a posto. Quindi tutta una quantità di documenti sui quali era necessario indagare per individuare le persone che li avevano mandati, che li dovevano ricevere. Penso un po' cosa ci dovessero a casa nella cassaforma. La perquisizione non è stata fatta perché si voleva favorire Rina o gli uomini di Cosa Nostra. La perquisizione non è stata fatta perché bisognava preservare quella trattativa e forse era parte di quella trattativa. Nel senso che qualcuno dentro Cosa Nostra diede per vie indirette l'imbeccata giusta per individuare Rina, offrendo Cosa Nostra come capo espiatorio dottor Rina. Ma i documenti no. Esatto. I documenti che aveva Rina dovevano passare alle mani di chi sarebbe venuto dopo. E passarono nelle mani di Provenzano? La nostra ricostruzione, anche nel processo trattativa, sì. Oggi sono nelle mani di Matteo Messina. Oggi sono certamente... Non può non essere il capo del momento a tenere questi documenti che sono la vera arma del potere e l'arma del ricatto. Dice Massimo Ciancimino che il Provenzano avrebbe addirittura indicato su una mappa topografica il luogo in cui si trova la villa qui a Bernini sostanzialmente. Io le posso dire una cosa, che Ciancimino non ho mai saputo niente di me, ma Provenzano, forse ancora accettando, Provenzano, era un mio paesano, era un corleonese, le posso dire la verità, un marito non lo conosce, questo posso dire che è un corleonese. Però Provenzano non ho mai saputo dove abito io, Provenzano non mi poteva far risultare perché non lo sapeva. Pazzuccio di maggio nemmeno, però Pazzuccio di maggio qualche volta mi lasciava all'accepe. Cercando, cercando, si dice le posizioni, una mi avessi potuto trovare perché non mi trovavo il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno. un matero che si è manata a cercare, a ricercare, perché prima faceva di aprire tante belline, tante cose, tante perpetrazioni che lei le trova a qualche parte. E quindi le stavelline cercavano la torrina, non le trovavano mai. Però dopo i giorni, purtroppo è successo che vengono quella mattina, ma io ci dico, mi ha arrestato, e sopra un furgone, che era lì che io vedo questo furgone, quanto esco, e disse, ma sto furgone, mi impressionava sto furgone. E dice, questo furgone, certo, i carabinieri con da maggio, e logicamente, tutto insieme a me, per me, e so io qua. Signor procuratore, questa è la stagione, la verità, che Trovenzano non poteva dire, non poteva fare, perché non sapeva dove ero, dove non ero. Nel labirinto delle verità non credibili, ce n'è forse una che è ancora più incredibile delle altre. Bernardo Provenzano poteva essere catturato il 31 ottobre del 1995, quando si trovava in un casolare nelle campagne vicino a Mezzo Iuso. Ma il colonnello Mori decise di non intervenire, di non far arrivare i suoi uomini, perché intorno a quel rifugio c'erano pecore, c'erano animali, c'erano cani, e poi non erano certi di aver individuato davvero il covo giusto. Luigi Lardo, capo mafia della provincia di Caltanissetta, divenuto confidente del colonnello Riccio con il nome in codice Fonte Oriente, il 31 ottobre del 1995, incontra il boss Provenzano, nel covo poco distante da Mezzo Iuso, accompagnato da Lorenzo Vaccaro, fratello dell'autista del boss. Gli uomini del Ross sanno tutto, ma non fanno irruzione. Ilardo aspetta in vano per otto lunghe ore. Dopo che lui li portò qui il 31 ottobre, continuavano a ripetere, nonostante tutte le indicazioni precisissime che venivano date, e anche quindi il supporto dei ridevi fotografici scattati dai carabinieri, continuavano a ripetere che non potevano procedere a questo servizio, perché non individuavano il covo di Provenzano. E addirittura il colonnello Riccio ci sarà un momento dove dirà «Io ormai mi vergognavo, a chiedere ai Lardo, di tornare nuovamente lì». Sinquanto le indicazioni erano così semplici, avevamo avuto le fotografie, c'eravamo stati, che non sapevo come giustificarli, che un nucleo operativo così importante, all'avanguardia, con dei mezzi sofisticati, delle apparecchiature sofisticate, non riuscissero a individuare questo luogo. Proprio è il colonnello Riccio, direi questo, l'imbarazzo che lui ebbe nella terza volta di chiedergli di tornare in questo posto. «Quindi lo caricano in questa macchina, gli mettono un cappuccio in testa». Le fanno vestire di nero, le fanno caricare dietro il sedile della macchina. Tu pensi a un gigante, no, di due metri, io me lo immagino, sofferto, rinchiuso, no, accovacciato. Non so neanche io come hanno fatto il fargliel'entrata. Il sedile di dietro, sembra tipo quando porti gli animali al macello, che li chiudi nelle gabbie, devi fare il viaggio in quel modo. Ecco cosa penso. «Adesso io sto provando a portarti laggiù». Non eri mai stata qua? Quella che vedi laggiù è Corleone. Quindi il rifugio è qua dietro, il suo covo dove per anni ha vissuto indisturbato la sua latitanza provenzale. Praticamente vedeva la sua Corleone. Poi si imbocca quella strada lì, sterrata, che vedi. Si abbandonava questa strada principale e poi si arrivava qua. Eccola qua. Questa è la casa, vedi? Praticamente il rifugio era là dietro. E' passato. Quello là. Puoi scendere? No. Un giorno, volevamo solo vedere da vicino dove c'era, dove era stato tenuto l'attitante provenzano. Per favore, vada via perché si chiama in casa. E' lì? No. Era lì Provenzano, no? Ho sbagliato completamente. Ah, non è questo? No. C'è sbagliato? Sì, sbagliato. E' sicuro? Sì. Per favore, vada via. Ma davvero è sbagliato? Certo, è sbagliato. Ah, non era qua proprio? Eppure mi avevano detto che era quella casa là. Non esiste. Ma lei come si chiama? Lei se ne vada perché altrimenti si chiama Carabinio. Poi è proprio da privato. No, no, lo so, infatti adesso andiamo via. Ma da tanto tempo che lei sta qua. Per cortesia andate via. Va bene, andiamo. Però perché dire balle, bugie? Perché lei deve dire una bugia? Lei sa la verità, perché deve dire la bugia? L'argomento, quando vede andare in via, ti ha la verità e la bocca. Va bene. Non è stata da privato. Peccato. Neanche a distanza di anni. Via. Va bene. Andare a vedere là non ci lascia. Via, via. Poi è proprio da privato. Va bene. Buona giornata, grazie. A seconda per l'altro. Arrivederci. Ci tenevo che tu la vedessi da vicino. Eccola lassù. Quella casa l'ha, vedi? Lui ci fa. L'uomo che avete sentito si chiama Giuseppe La Barbera e non dice la verità. Lui è figlio di Antonino La Barbera, tratto in arresto nel 2005 per associazione di stampo mafioso nell'operazione Grande Mandamento. Il padre assunse una posizione prestigiosa nell'organigramma di Cosa Nostra, fornendo a criminali del calibro di Provenzano, Spere, Giuffrè, i locali di cui aveva disponibilità, proprio nel comune di Mezzo Iuso. Va male, no? Se quel giorno quell'arresto fosse stato fatto, mia padre sarebbe... E' stato uno schifo tutto quello che mi aveva fatto. Otto ore di tempo, amico. Otto ore. Otto ore che per quello che abbiamo ricostruito lui è stato lì, pensando, no? Aspettando, tu immagini anche l'ansia, da un momento all'altro, di vedere un'irruzione fatta lì dentro. Le ultime sue parole sono state al colonnello Riccio, gli ha chiesto di salvare l'ultima dignità che un uomo possa avere, no? Ma non perché non era convinto delle sue scelte, ma credo proprio la dignità di uomo. Gli ha chiesto quando entrate... E lo arrestate, non fatemelo vedere più in faccia. Quindi tu pensa, no, quest'uomo, il tormento che ha avuto e fino a quanto, no, anche tu entri in conflitto con te stesso, con quello che sei stato, con quello che hai deciso di non essere più. Però gli chiedi, quando entrate, quando fate l'irruzione, vi chiedo solo una cortesia, non me lo fate più guardare in faccia. È stato addirittura fotografato. Perché non sono mai entrati, secondo te? Mi sono dovuta sentire nel processo e nella trattativa che non hanno fatto questo servizio, perché le pecore e i pastori impedivano di procedere a quell'arresto. Per me è inaccettabile, ma io credo che per qualsiasi italiano dovrebbe essere inaccettabile sentire il ROS, il reparto speciale, mirato alla salvaguardia del terrorismo, della criminalità organizzata. E mi vengono a giustificare le pecore e i pastori. Abituandosi per anni e anni a lavorare in maniera individuale, in maniera decisionista, a volte si rischia di lasciare magari per strada qualche risultato positivo. O perché Provenzano non andrà con catturato. Questa amigliazione che capisco... È il grande mistero, no? Lei ha un attimo lì, ce l'ha lì Provenzano. Ne parlano i giornali, le televisioni, quindi non è... Ma lei sarebbe entrato? Io sarei entrato. Perché male che vada non lo prendi, lo prenderei un'altra volta. Non è che se non prendi, non sa quante volte uno non prende, va nel posto e trova la casa vuoto, non trova nessuno. No, perché la domanda a cui io sinceramente riesco a darmi una risposta, tu non entri quel giorno, ma il giorno dopo puoi tornare. Anche? Non sono mai tornati. Anche. Ma lei è molto brava, lo può chiedere direttamente ai colleghi del ROS queste cose, che saranno anche più precisi. C'è stato sei anni da quel giorno in poi indisturbato là. Sei anni! Sei lunghi anni. Sei anni, undici anni dopo l'hanno arrestato, ma per sei anni lui è rimasto là dentro indisturbato. Cioè con tutta la buona volontà che una non vuole pensare male, non vuole essere per forza, no? Quella che deve addossare delle responsabilità, deve vedere il marcio nelle situazioni. Sei anni! La gente si può... le persone normali che non ci hanno perso il papà si possono rassegnare. Ma io mi potrò mai rassegnare a una cosa del genere. L'avere ritardato per sette, otto anni la cattura di Provenzano è stato un atto politico di una gravità assoluta. Perché si è consentito all'organizzazione Cosa Nostra di... Dopo l'abbatosta ricevuta con l'arresto di Rina si è dato la possibilità di ricostituirsi con una nuova filosofia, che era la filosofia della sommersione, tipica dell'atteggiamento di Provenzano. E da quel periodo l'organizzazione è diventata meno percepibile, quindi agli occhi della gente è meno pericolosa, quindi è diventata meno una esigenza e un'emergenza politica prima ancora che criminale. Si è cancellata dall'agenda politica la vicenda mafia perché non se ne parlava più. La strategia di Provenzano aveva vinto. Mori venne assolto per la mancata cattura di Provenzano nel covo di mezzo di uso. Però lei ebbe parole durissime contro quella sentenza di assoluzione. Sì, la cosa curiosa è che il processo celebrato contro Mori e Ubinu per la mancata cattura di Provenzano a mezzo di uso si accavallò alla chiusura, alla fine delle indagini del processo trattativo. La vicenda della mancata cattura di Provenzano andava letta in un contesto molto più ampio che era proprio il contesto della trattativa. Pur tuttavia, dopo l'assoluzione, io che già coordinavo il pool della pubblica accusa nel processo trattativa, mi resi conto che c'era un grosso rischio che dopo l'assoluzione sarebbe venuto fuori, cioè il tentativo di condizionare il giudizio sulla trattativa mediante la sentenza di assoluzione dell'altro processo. Quindi feci delle dichiarazioni dure, tra l'altro indotto da uno giornalista che lì per lì mi chiese che voto avrei dato alla sentenza, io dissi che avrei dato 4 o meno perché a mio modo di vedere quella sentenza era uscita fuori tema. Nel senso che in una sentenza di 1700, 1600, 1800 pagine, adesso lo ricordo, la stragrande maggioranza, cioè la maggior quantità di pagine fu dedicata a demolire l'ipotesi della trattativa e invece una sparuta minoranza di pagine fu dedicata alla vicenda processuale che invece era il centro del processo sulla mancata cattura di Provenzano. Questo sbilanciamento mi indusse a dare questo voto che voleva dire naturalmente molto altro. Questa storia però ha un finale tragico. Dopo aver partecipato il 2 maggio 1996 a Roma alla riunione per entrare nel programma di protezione alla presenza del colonnello Mario Mori, del colonnello Michele Riccio, della dottoressa Teresa Principato e del dottor Giovanni Tinebra, Luigi Lardo torna a Catania. Passano solo otto giorni e il 10 maggio viene ucciso sotto la sua abitazione. Ad abbracciarlo per l'ultima volta c'è sua figlia. Se avessi potuto l'avrei strappato alla morte. Ci giorni è la mia vita a seguire tutti questi 25 anni. Avrei voluto il potere di strapparlo alla morte. Questo avrei voluto fare. Hai sentito esplodere i colpi fuori? Certo. Da casa tua? Certo. Ma hai pensato a lui o no? Subito. Subito. Sei scesa in strada, l'hai visto lì? Sì. Ma hai abbracciato il corpo? Volevo tirarlo fuori là dentro. Volevo proprio riprendermelo. Questo è quello che volevo fare. Le mani. Ho tentato di ripararsi dai proiettili con le mani. Avevo i buchi nelle mani. E tu pensi, no? Un gigante di quello che alla fine cercava di ripararsi con le mani dal fuoco. Poi hai detto che la mafia ha fatto la mafia e lo Stato non ha fatto lo Stato. Massimo, sì, torniamo sempre lì. Torniamo sempre a questo. Perché anche la mafia che alla fine ha commesso l'omicidio, quale effetto sorpresa io o mio padre stesso avremmo potuto... Tu pensi che mio padre non se l'era immaginato che la mafia gli avrebbe comunque fatto pagare il conto delle sue scelte? Ha fatto arrestare una cinquantina di persone, tra cui personaggi super latitanti che si cercavano da anni. E tutti quanti sappiamo come funzionano le cose in Italia, ma in Sicilia soprattutto. E soprattutto chi è che appartiene a quel tipo di vita. Però il problema è chi è che lo doveva accompagnare in questo cammino, chi è che lo doveva gestire, chi è che lo doveva proteggere. Mio padre era a Roma, ha fatto una riunione ristrettissima, poi pochi giorni dopo torna in Sicilia e viene ammazzato. Così è stato? Nessuno avrebbe dovuto sapere che collaborava. Nessuno. Passano troppi pochi, solo otto giorni da quella riunione. Anche perché fino a quando lui è stato tenuto segreto e quindi il nome Luigi Lardo non era mai stato svelato, ma era chiamato Fonto Oriente. Lui per due anni ha fatto delle operazioni brillanti. Perché dal momento che va lì e si presenta non più come Fonto Oriente, ma diventa ufficialmente Luigi Lardo, succede questo? E perché dal momento che lui sedendosi lì di fronte all'elite del tempo dei magistrati immediatamente non viene messo sotto protezione, scortato? Non lo volete mettere sotto protezione? Ok, scortatelo. Come si fa? Che risposta ti dai oggi? Che risposta mi devo dare? Che non c'è stata la volontà di farlo. Non c'è stata la volontà di proteggerlo, non c'è stata la volontà di fare questo arresto, non c'è stata la volontà di salvare anche il patrimonio che lui costudiva. Perché comunque sedendosi di fronte a quei tre magistrati ha dato un inizio di dichiarazioni che chiunque l'avrebbe, credo, blindato. Soprattutto di fronte a una persona che ti sta dicendo per la prima volta vi darò la risposta su tutte le stragi, sulle situazioni più incredibili che l'Italia ha vissuto. Ecco Riccio era il colonnello con cui lui aveva un grande rapporto. Tu poi vi siete sentiti, vi siete incontrati, l'hai conosciuto e lui era l'uomo che sapeva che era qui Provenzano. Che idea si è fatta? Che cosa ti ha detto? Quest'operazione non si è voluta concludere. Tuo padre non è stato voluto proteggere. La latitanza di Bernardo Provenzano continua indisturbata per altri 11 anni, fino a quell'11 aprile del 2006, quando viene arrestato a Montagna dei Cavalli, nel comune di Corleone, non molto lontano da quel casolare dove Luigi Lardo aveva atteso per ore che i Ross facessero irruzione. Aspetta! 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 Vedi Massimo, proprio là su quella montagna abbiamo attivato la prima osservazione dell'ipotesi del casolare dove in realtà pensavamo potesse nascondersi Bernardo Provenzano. Qui siamo circa due chilometri in linea d'aria. Credo un chilometro e mezzo, due chilometri dal casolare che è lì in fondo. Ma eravate nascosti dove? Era un gabbiotto dell'Enel di due o tre metri quadrati e io con altri tre della squadra siamo stati là per un paio di giorni chiusi e da lì con un monitor vedevamo la telecamera posizionata sotto il costone della montagna che inquadrava da due giorni quasi in maniera fissa l'obiettivo del casolare. E in quei due giorni di osservazione notiamo un casolare completamente chiuso nella parte dell'abitazione non filtrava luce neanche la sera di notte quindi tutto ci lasciava pensare che fosse assolutamente disabitata mentre accanto però c'era un laboratorio di produzione di formaggi ricotta gestito dal proprietario del casolare e ovviamente c'era anche un via vai di persone. Quindi era anomalo? Cioè Provenzano ragionava qui non mi cercano perché ci sono delle persone e non è pensabile che il numero uno si nasconda dove c'è movimento. Avendo lavorato per anni alla ricerca di un soggetto come Provenzano che era una sorta di diabolico nelle strategie allora ti abitio a pensare anche come avrebbe pensato lui. E quindi quello potesse? Se quello è un elemento suo che lui può pensare che per noi può in qualche modo farci allontanare e forse è il caso di approfondire e di verificare meglio se proprio la frequentazione di soggetti di quel casolare non fosse proprio un'ulteriore copertura. Eccolo qua. Quello è il casolare che vedevamo dalla montagna. Voi avevate un piccolo monitor su quella montagna? Noi avevamo montato una telecamera alimentata con batteria nascosta sotto terra ed era un piccolo obiettivo che spuntava fuori dalla vegetazione. Ecco ma come si vivevano quelle ore? Emotivamente? La paura di essere magari avvistati da un pastore che potesse allertare? E c'era sicuramente molta molta tensione L'ansia era fortissima ma basta pensare che l'emozione ce l'ho ancora oggi nel tornare qua dopo 15 anni perché stavamo cercando una persona latitante da 43 anni di cui nessuno aveva saputo raccontare di averlo fisicamente incontrato nessuno lo aveva visto in volto l'unica traccia che avevamo di lui era una foto segnaletica del 63 prima che iniziasse la sua latitanza Da questo monitor che cosa vedevate? Si notava movimento? Si notava movimento su quel casolare accanto sulla destra perché là si faceva il formaggio la gente andava per comprarlo, per prendere l'acqua ma la casa, quella che vedi con la tettoia rossa era sempre chiusa e neanche il proprietario entrava in quella casa L'unica stranezza che notammo, la prima vedi quel corpo avanzato che c'è era il bagno di quel casolare che dagli accertamenti fatti era un bagno costruito da meno di un anno quindi probabilmente quella casa serviva a quelle esigenze da tempi recenti perché questo ci colpì perché noi venivamo da anni di attività investigative su Provenzano e lo avevamo cercato in altri territori della Sicilia non più di un anno prima avevamo fatto terra bruciata a Provenzano arrestando tutti i suoi fedelissimi e noi avevamo ipotizzato che venendo meno il terreno dei suoi fedelissimi ormai tutti arrestati l'unico punto in cui poteva in qualche modo nuovamente sentirsi protetta era tornare al luogo di origine che era Corleone e così è stato perché da un ambientale a casa del fratello sentiamo la famosa frase ma iddu ancora cae iddu era il modo con cui ci si riferiva al boss Provenzano non veniva mai chiamato Bernardo zio Bernardo veniva mai chiamato iddu quando è che avete un elemento in più per capire che c'è qualcosa perché si racconta che anche di un'antenna televisiva che entra in questa storia che è un altro elemento importante abbastanza particolare come episodio il proprietario del casolare che ha la sua abitazione a Corleone aveva, abitava a Corleone per cui la mattina saliva la sera scendeva a casa che non entrava mai in questa casa che rimaneva sempre chiusa quindi non la viveva stava sempre nel laboratorio accanto dei formaggi un giorno quel giorno in cui c'era l'osservazione vediamo curiosamente che lui sale sul tetto e gira più volte l'antenna della televisione e abbiamo la sensazione come se stesse orientando l'antenna in base all'esigenza di qualcuno che stava vedendo la televisione quindi gli diceva gira a sinistra o gira a destra poi però vedete un giorno la famosa mano questo è il giorno fativico dell'11 aprile è il giorno in cui poi facciamo l'intervento quel giorno alle 9 del mattino dell'11 aprile il proprietario del casolare si avvicina con un sacchetto riteniamo di ricotta di formaggio appena fatto si avvicina a quella porta del casolare e stranamente come si avvicina la porta magicamente si apre da sola e spunta da quella porta una manina che prende il sacchetto lo porta dentro e la porta si richiude ti lascio immaginare diciamo l'entusiasmo represso perché con quella due metri quadrati di cabina dove eravamo nascosti non potevamo neanche gridare perché c'era il rischio che qualcuno passando ci sentisse e andava a vanificare tutto questo impianto investigativo per cui là c'era la certezza che in quel casolare chiuso isolato blindato quanto meno una persona c'era ma non sapevamo chi ci manca la prova provata la consegna della posta andiamo da vicino raggiungiamo quel posto che era stato l'ultimo covo di Bernardo Provenzano mi racconta esattamente quello che è successo il lavoro che non si è visto per avere la certezza che quel soggetto chiuso là dentro si trattava di Bernardo Provenzano avevamo a che fare con uno che era sfuggito in più occasioni perché non potevamo sbagliare avevamo deciso qualche giorno prima in costanza di osservazione di far partire un ulteriore pizzino sacchetto dall'abitazione principale in casa della moglie e così facciamo e quella mattina eravamo là appostati in attesa che Bernardo Riina salisse a consegnare la posta la prensione era notevole finché la mattina dell'11 aprile dopo aver visto quella manina fuori strada di Bernardo Riina in bocca Montagna dei Cavalli e effettivamente lo vediamo da quella telecamera della montagna entrare in questo cancello a sinistra eccolo qua e arriva in questo casolare era qua quello è il casolare quello è il casolare dove e voi come agite come entrate avevo già un po' di uomini già su Corleone e tanti altri che erano già partiti da Palermo per raggiungere l'obiettivo li ho fatti confluire tutti in una zona qua vicina tra l'altro avete utilizzato dei mezzi che non destassero sospetto assolutamente sì però prima ancora ho fatto un ultimo briefing finale quello che mi premeva era assicurare una cinturazione larga perché non sapevamo che tipo di vie di fughe potessi avere potrei avere un tunnel sotto la casa un tunnel piccolo e uscire da un'altra parte quindi a me serviva la cinturazione quanto più larga possibile fatto questo briefing finale abbiamo messo gli uomini all'interno di un furgone occultato un furgone compatibile con quelli che già frequentavano la zona quindi non avrebbe testato sospetti e io insieme ad altri tre miei colleghi ci siamo messi nel primo fuoristrada e siamo entrati lo stesso fuoristrada questo era aperto lo stesso fuoristrada lo stesso fuoristrada lo stesso modello di Bernardorina Bernardorina va via il proprietario sta pensando che Marino sta ritornando indietro e quindi non si allarmava e quindi siamo entrati assicurando l'effetto sorpreso c'era il proprietario fuori dal casolare siamo intervenuti in maniera rapida scavalcando il proprietario e ci siamo subito di assicurati la porta d'ingresso del casolare vai ragazzi vai vai lei si è buttato sulla porta sono entrato io per primo ho trovato Provenzano che sta là per chiudersi dall'interno la porta siamo riusciti ad aprirla e l'ha avuto qualche momento di tensione perché lui non sapeva chi fossimo in questi casi la cosa che temono in assoluto è che possa essere una cosca avverso qualcuno che vuole ucciderlo dopo pochi minuti avendo avuto la consapevolezza che si trattava della polizia si è da quel punto di vista rasserenato e lì ha avuto la consapevolezza che i suoi 43 anni di latitanza stavano per finire la consapevolezza suosizione le sue che ci faccia sui la macchina la sme la persone hanno che sensazione ha avuto in quei momenti in quegli attimi in cui compiva un passo importante dalla sua storia professionale un grande successo dello stato e in quei secondi pensi che gli otto anni di attività investigativa che avevamo fatto per raggiungere l'obiettivo si stavano concludendo la cosa curiosa che in quei pochi metri quadrati di casolare c'era tutta la storia degli anni di latitanza perché cercavamo una macchina da scrivere modello antico ed era sulla scrivania cercavamo i pizzini ce ne erano centinaia di pizzini cercavamo il miele particolare che lui nei pizzini voleva perché era ghiotto di questo miele oppure la cicoria selvatica perché per la suo problema alla prostata gli avevano consigliato e abbiamo trovato anche quello era un po come in pochi metri quadrati riaprire tanti cassetti e ogni cassetto erano segmenti dell'attività investigativa tutti racchiusi la compreso il croce fisso al collo che era il segno di quella conversione di quella legame con con la religione cattolica di cui sapevamo e che sapevamo che lui in qualche modo era molto credente che sensazione ha avuto di trovarsi di fronte a un uomo che in quel malattimo aveva paura no come totorina ha avuto molta paura quando ultimo l'ha catturato anche lui era così ha reagito con paura lui ha reagito con paura i primi momenti ma poi quando ha capito che la polizia sapendo che fa parte delle regole del gioco la polizia ovviamente rispetta le regole della cattura quindi si è ma le ha detto qualcosa in particolare assolutamente non ha parlato non ha voluto dire niente sapevamo tutti che era in qualche modo il suo la sua forma di arrendersi a uno stato che dopo 43 anni gli stava mettendo le manette per noi era un momento importante non soltanto perché stavamo chiudendo dal punto di vista militare la ricerca di una di un latitante importante che andava avanti da otto anni ma se contestualizziamo meglio chi era provenzano in quegli anni in realtà era era anche una forma direi quasi definitiva di liberazione della pressione mafiosa sui siciliani perché provenzano rappresentava non soltanto il super latitante ma rappresentava il mito dell'imprendibilità e rappresentava quell'alibi per molti siciliani che ma tanto la mafia vince sempre perché tanto a quello non lo prendono in questo cimitero ci sono i buoni e i cattivi le vittime i carnefici c'è placido rizzotto sindacalista assassinato a corleone e il boss bernardo provenzano morto in carcere nel 2016 bernardino verro primo sindaco socialista di corleone anche lui assassinato è il capo dei capi tottorina all'inizio del giugno del 1993 qualcuno informa ed è un altro dei misteri matteo messina denaro che sta per arrivare per lui un mandato di cattura a quel punto il boss decide di fuggire di darsi alla latitanza ma prima di farlo scrive una lettera una professoressa di castelvetrano una ragazza molto giovane con la quale lui aveva una relazione in questa lettera dice non posso far altro che diventare invisibile perché sono un perseguitato della giustizia la cosa che colpisce di matteo messina denaro nel periodo che io ho radiografato è il fatto che fosse un perfetto sconosciuto cioè che un signore che mette le bombe che il figlio del capo mafia di castelvetrano del capo mandamento di castelvetrano uno storico uomo d'onore era sostanzialmente quasi un perfetto sconosciuto se non per gli addicchi ai lavori uno di questi era il dottor germanà che matteo messina denaro considerava il vero cervello della provincia di trapano possiamo dire che quando tenta di eliminare il dottor germanà fa il suo salto di qualità il padre a certo punto si defila ufficialmente per una malattia che lo aveva colpito e il figlio prende in mano l'erede della provincia al punto che già nel 91 partecipa al momento deliberativo della strategia stragista a tutti gli effetti qualità di reggente della provincia di trapani quindi prima ancora dell'attentata germanà matteo messina denaro già appena trentenne appena appena ancora ancora non aveva compiuto 30 anni era già l'uomo di vertice della provincia di trapani è il 14 settembre del 1992 solo due mesi dopo la strage di via d'amelio cosa nostra vuole cancellare la memoria storica della mafia trapanese l'investigatore rino germanà che paolo borsellino da marsala voleva portare con sé a palermo per ucciderlo sul lungomare di mazzara del vallo totorina impiega il gota di cosa nostra matteo messina denaro giuseppe graviano e leo luca bagarella quel giorno allora 14 15 avevo finito di lavorare in commissariato e prendo il motorino e sto per andare via un pozzotto piglia mi ferma e mi dice dottore dice che fa dice le dispiace dice se oggi lei si porta la panda che deve essere ricoverata per la sostituzione delle pasticche dei freni ed io passerei alle quattro a casa sua con un'altra macchina da ricoverare e quindi salgo sulla panta piano piano me ne vado verso caso invocco il lungomare di mozzarata del vallo dove mi socia teneva una casetta mare a 300 400 metri massimo dalla villetta di mia socia sento il rombo di un motore in accelerazione così guarda lo specchio attraverso e dico ma che fa questo serpeggiava non ho il tempo di realizzare cosa stesse facendo che mi affianca si sforge uno dal finestrino con fucile collettone io lo guardo poi mi spara mi rannicchio istintivamente e me sa mi ha ferito qui sanguinato però non ho perso non mi sono impietrito la macchina loro si è fermata più avanti per l'abbrivio freno e scendo prendo la pistola che tenevo dietro ci sparo e ma prendi l'unotto e loro si disarmano così gli sparo così e poi loro rimangono fermi un attimo e io vado verso la spiaggia allora non sapevano a che fare dopodiché a un certo punto io c'erano buttando ma chiedevo anche aiuto dicendo che erano commissari però ci ripensano più e se ne vanno non sono mai scesi poi fanno che loro hanno sparato non sono mai dalla macchina esatto ma perché secondo te perché io non gli ho dato mai le spalle non mi sono impiettivo perché hai reagito non hai avuto paura sempre di fronte a loro ero mai 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 gli ho dato le spalle quindi loro che cosa fanno in versione di marcia ci ripensano ritornano mettono la macchina ridosso qua si sporge uno e comincia a sparare col colpo singolo a col calascio mentre tu ne spiaggia mentre ieri poteva essere lì dove c'è quel signore e quello poteva essere lì loro se ne vanno che cosa fanno ci ripensano ancora ma noi non possiamo sbagliare quindi non amo ritornano stavolta si erano posizionati meglio col colascio quindi io sono in acqua sul bagnasciugo insieme ad altre bagnasciugo sono stati 10 metri giusto l'acqua mi arrivava qui alle ginocchia dopodiché loro appiglia mettono a colpo a raffiche col colascio e sparano quindi sparano da tutte le parti cioè anche anche a quelle persone che era lì vicino fanno praticamente un arco tracciano un arco e sparavano a raffiche io sono in acqua dopo diverse raffiche riemergo come un sorveggibile anche le persone che erano a fianco a me ci guardiamo ancora una volta non sanno da farsi fanno in versione di marcia se ne vanno e lì è finito quegli uomini non erano uomini qualsiasi erano tre uomini importanti di cosa nostra chi erano ma si dice che alla guida fosse messina denaro matteo poi c'era bagarella leo luca e graviano giuseppe perché tre uomini così importanti decidono di ammazzare un uomo come lei e totorina che stabilisce di uccidermi non so cosa gli abbia dato fastidio di quello che avevo fatto io nella mia attività forse perché aveva forse perché aveva chiesto di commissariare no non lo so non lo so il comune per le situazioni masiose ma uno può dire questo ne ho fatte tante attività non solo quale delle attività che ho fatto e poi non tutte hanno hanno avuto grossi successi se così si può dire ma comunque quello che vorrei precisare che lui nel 2013 parlando poi dal carcere quando era intercettato torrina parlando con uno come si chiamano russo nella prima parte di questa conversazione ambientale intercettata parlava di fare nuovamente l'attentato di matteo e poi dice come mai germana non è morto c'è subito nella sua conseguenza logica evidentemente rimorginava ancora nella testa perché non fosse morto e si lamentava del gruppo di fuoco che non era stato capace di finirmi mentre lui faceva saltare i palazzi come fu un me che lo riceve in dialetto perché tre personaggi di primo piano della mafia tentarono di uccidere dottor germanà credo che la risposta ancora non sia stata data non sia stata accertata su cosa aveva messo le mani germanà io ritengo che la storia e sia quella che ci riporta al febbraio del 92 la vicenda del condizionamento mafioso per la sentenza nei confronti di rovine madonia il processo per le per emanuele basile in capitano basile il capitano basile in cui ricordiamo c'era morto già un magistrato ucciso insieme a suo figlio attraverso germanà individuiamo enzo inserillo che era un politico ma fu quello che poi i pentiti ci riferiranno essere il punto di collegamento l'anello di collegamento con i fratelli graviano e lui che a un certo punto secondo le dichiarazioni sinacori va credo a cefalù dove c'era un summit di mafia e dice ragazzi adesso basta con le bombe quindi aveva la possibilità di rivolgersi in questo modo a mafiosi del calibro di graviani portando evidentemente delle ambasciate ecco l'individuazione di izzerillo credo che sia la chiave di tutto quindi germanà aveva messo le mani sugli incroci politiche affari e per questo andava eliminato cioè non c'era solo la mafia nella storia di germanà ma germanà non era l'ultimo arrivato era uno che aveva un pedigree di investigatore come pochi altri a quel tempo conosceva tutta la storia della mafia del trapanese che è esattamente lo specchio di quella corleonese insomma rina aveva la sede di staccata a mazzara in provincia di trapani dove nel periodo dell'estaggio del 92 si vivo si rifugiano tutti i latitanti bagarella brusca graviano messina darano matteo nel 91 progetta l'attacco allo stato da castelvetrano da castelvetrano partono i cosiddetti salsicciotti cioè l'esplosivo che dalla fattoria dal pecoraio nastasi vanno in via palestra milano dove mettono in fibrillazione il nostro o paese i salsicciotti imbottiti di tritolo diretti al continente per le bombe del 1993 che hanno insanguinato il nostro paese sono stati confezionati a castelvetrano ecco ma chi era il proprietario di questo vile era nino nastasi detto papassè un uomo molto vicino a matteo messina denaro ecco noi adesso vi vogliamo far vedere che cosa è rimasto di questo ovile è tutto fermo tutto bloccato da anni quindi max se mi raggiungi qua sopra vi facciamo vedere che cosa si vede oltre al muro di cinta oltre al cancello ecco questo è quello che è rimasto un vecchio ovile tipico delle costruzioni siciliane i primi anni del novecento completamente abbandonato ormai la natura si è impossessata di tutto quello che lo circonda ed è incredibile pensare che proprio qui dentro gaspare spatuzza preparò i salsicciotti che contenevano il tritolo che venne poi trasportato a nord che doveva finire per devastare milano era il 27 luglio del 1993 dopo l'arresto di nino nastasi la gestione di tutto questo vile di questa azienda è andata in capo alla moglie ed è incredibile come lei nonostante il marito fosse stato condannato all'ergastolo si è riuscita a tenere finanziamenti che valutabile oggi in euro circa 4 milioni di euro negli anni dall'unione europea e anche dalla gea che è l'agenzia regionale siciliana solo due anni fa quindi pensate quanti anni ci sono voluti tutto questo è stato sequestrato oggi non c'è più nulla fa un certo effetto immaginare che il tritolo l'esplosivo confezionato qui partito da qui dal cuore della sicilia si è arrivato a gettare il terrore nel nord italia chi conosceva tutti gli uomini tutti le relazioni era proprio giocatore che rapporti tra la massoneria certo c'è mafia guardi io su questo sono molto molto cauto però quando ci sono i riscossi riscontri perché diventano delle favole bisogna accertare le cose bene nella vicenda ferraro scaduti c'è una relazione non del quisco de popolo chiunque ma del procuratore della repubblica dell'epoca gian manco che fa riferimento alla più due ed è scritta in una relazione su questa cosa credo che non ci siano stati gli opportuni approfondimenti certo non è che se l'hai sfilato dalla dalla tasca questo accenno gian manco che riferisce quello che apprende da addirittura dal presidente facente funzionare la corte d'appello ecco però mi squinti di due in questa vicenda germanà che aveva indagato sulla loggia scontrino sulla massoneria e su evidentemente quel tessuto putrido su cui come dire prosperava la mafia per questo non ha eliminato rina dopo le stragi doveva togliersi sassolini e germanà era uno di quelli era un masso in realtà enorme e tanto è vero era così enorme che si mobilita il gota di cosa nostra per ammazzarlo non l'ultimo killer ma è come dire per per rappresentare l'importanza e l'obiettivo si mobilita il vertice di cosa nostra dell'epoca miglia questo germanà questo germanà il commissario sono andato ad ammazzarlo gli hanno sparato che lo vogliono ammazzare gli sparano gli hanno sparato gli ha sparato uno sparatore non è che posso dire però sparato era fa solo perché ognuno si metteva a sparare ando piglio piglio figlio di buttana figlio di buttana minchia si salvò si salvò nell'acqua con tutti i pantaloni tutte le cose nell'acqua tutta l'acqua ma questo non lo sapevate questo non lo sapeva nessuno mi ha cognato bravi ragazzotti c'erano c'erano questi fratelli graviano erano piccini è sembrata una cosa troppo facile era una cosa una cosa dei piccini e quello gli è arrivato davanti davanti questo dove morire a mare figlio di buttana minchia che era chiuso oggi minchia ho detto questo non ve lo dovete dimenticare matteo messina denaro è l'unico boss latitante da 28 anni sulla cui testa pesano gli argastoli per tutte le stragi che hanno insanguinato il paese dal 1992 alle bombe del 1993 fino a quella mancata allo stadio olimpico del 1994 rina che era un sanguinario ma era una persona intelligente capisce che l'idea di fare le stragi insomma non può trovare tutti d'accordo perché la filosofia all'interno di cosa nostra è sempre stata quella che lo stato non si attacca non si fa la guerra perché si ha tutto da perdere quindi questa decisione che rina deve prendere a un certo punto quando comprende che lei si sa il maxiprocesso e segnale è una decisione che non troverà tutti d'accordo e rina ha bisogno di avere una sorta di gestore dell'ordine pubblico interno che garantisca che se c'è qualcuno che non intende adeguarsi a questo nuovo a questo nuovo regime deve essere immediatamente stanato e colpito e matteo messina denaro è il garante di questa diciamo scelta di di rina di intercettare e di colpire tutti quelli che non si pongono alla sua parte siamo il braccio armato il suo braccio armato interno interno e l'esterno mattino e silenaro va a casa del suo amico francesco geraci era quello che aveva il lingotti di rina che che conservava il conservava il tesoro di rina e che era anche l'intestatario dei beni degli immobili delle aziende di rina cosa gli dice che ne pensi se cominciamo a far crollare i monumenti se attacchiamo il patrimonio artistico secondo te che cosa succede e se alle bombe alla morte a terrore per per la morte delle persone aggiungiamo la distruzione del patrimonio artistico e che cosa succede tu vuoi che qualcuno non vada da rina a dirgli facciamo un patto la strategia era proprio quella cioè l'atto terroristico era finalizzato proprio a creare panico a diffondere panico terrore più che panico e riguadagnare posizioni e rinnegoziare con lo stato da una posizione di forza le nuove posizioni di recente morizio lavola ha detto è scritto nel libro di santoro che i servizi non c'erano dentro questa strage non c'entrano i servizi dice avola che idea si è fatto non lo so cosa dice avola io so che quello è un buco nero e tale rimane chiunque può mettere dentro quello che vuole in questo momento chiunque può mettere dentro quello che vuole ma a livello processuale non ci sono riscontri né da una parte né dall'altra se ci fossero riscontri processuali si sarebbe celebrato un processo ma anche quando dice per esempio che era presente sul luogo in cui è stata fatta la strage in via d'amelio matteo messina renaro è credibile le dico che avola è stato sentito nel processo contro matteo messina renaro e non ha mai riferito una della presenza pur parlando di matteo messina renaro della sua del suo coinvolgimento in altre vicende delittuose non fece alcun riferimento al protagonismo di matteo messina renaro nelle stragi ma neanche quando lei l'ha interrogato questo accadde successivamente non ha mai parlato di la presenza di matteo messina renaro lì via da meglio a lei sì su un epoca successiva all'escursione avvenuta nel processo lo ha fatto in una sede diciamo nel corso di un interrogatorio e gli elementi che l'ufficio acquisito non al momento non riscontrano questa questa sua indicazione diciamo che un buco nero che tra le ognuno mette qualche vuole ma rimane nero al momento rimane nero e questo momento non c'è possibilità di riempirlo perché ma può essere utile dire delle cose per fare una parola forte dei depistaggi per dire altre cose ma guardi noi dei depistaggi ne sappiamo qualcosa a calzare set non si può dire per partito preso questo è un depistaggio dire un depistaggio e significa aver fatto delle indagini avere accertato il depistaggio col senore poi le posso dire che molti sono i depistaggi nei quali ci siamo imbattuti qual è il buco nero che lei vorrebbe colmare su via da meglio e il movente il momento il vero e reale movente della strage di via da meglio che senso aveva fare un'operazione così cosa voleva ottenere tuttavia è vero che paolo borsellino era nel mirino di cosa nostra dal 1980 che si erano stati ripetuti tentativi di ucciderlo ma è anche vero che ucciderlo dopo 57 giorni significava insomma stimolare una risposta dello stato che fino a quel punto non c'era stata e che non ci sarebbe stata lo stesso 41 bis in parlamento non c'era maggioranza per farlo provare il decreto martelli che viene approvato nell'agosto del 92 non sarebbe mai stato convertito in legge se non ci fosse stata la strage di via da meglio e paradossalmente il tema centrale su cui cosa nostra si impegna impegna tutte le sue forze da quel momento in poi è proprio l'attenuazione del rigore del regime carcerario che nasce a seguito della conversione in decreto legge ma quindi scusi è quasi come se fosse stato costretto a farlo che non aveva nessun interesse da un punto vista del sistema mafioso fare un'ulteriore operazione di come questa in quel momento non aveva nessun interesse erano altri che avevano interesse allora forse è uno dei punti su cui dobbiamo indagare anche perché nelle intercettazioni ripentiti si avverte questa esigenza di totorina di fare in fretta ma nelle dichiarazioni dei collaboratori si avverte anche l'intervento esterno ci sono i collaboratori che hanno detto che rina fu costretto a fare questa strage e torniamo quindi al solito punto agli incroci tra ambienti esterni alla mafia che ci siano stati ambienti esterni che potessero avere interessi interessi in qualche modo concordanti con quelli di Cosa Nostra che possono avere anche diciamo in qualche modo spinto Cosa Nostra a effettuare non dare ordini perché Cosa Nostra non prende ordine escluderei una idea del genere che Rina abbia preso degli ordini perché Rina non prende ordine a nessuno il primo ad accreditare i fratelli Graviano di Brancaccio ai corleonesi di Rina è il boss Filippo Guttadauro cognato di Matteo Messina Denaro Messina Denaro diventerà anche per la comune passione per le donne la bella vita il vero fratello di Giuseppe Graviano lei ha detto che Giuseppe... ricordo cosa ho detto Giuseppe Graviano... che erano i miei fratelli i veri fratelli sono Giuseppe Graviano e Matteo Messina ricordo bene quello che ho detto perché sono così fratelli? Giletti, io ho un fratello però ho un'altra persona che magari possa andarci più d'accordo che con mio fratello perché quante volte succede che due fratelli neanche si guardano in faccia e non si parla non è il caso di Graviano sono loro che comandano oggi? risulti, sì Brusca li chiamava il secchio e la corda per dire e sono gli uomini su cui Rina punta quando decide di fare le stracce io credo che sia nato tutto attraverso come dire passando per l'elemento anagrafico non sono molto vicini dal punto di vista dell'età Giuseppe Graviano e Messina Denaro Matteo poi io credo che sia stato determinante nella fase in cui Totorina aveva bisogno di creare degli apparati direi anche segreti all'interno della stessa organizzazione portare avanti efficacemente la sua idea straggista credo che in quella fase Messina Denaro che aveva un rapporto preferenziale con Totorina quasi come se fosse il figlio, il padre di Messina Denaro Francesco Messina Denaro aveva affidato sostanzialmente dal punto di vista mafioso il figlio a Totorina che lo aveva cresciuto questo era l'indicazione credo che abbia in qualche modo agito su Totorina Matteo Messina Denaro per accreditare Giuseppe Graviano proveniente dalla famiglia di Brancaccio una famiglia nei confronti della quale credito Toccio con Toccio cioè dei personaggi un po' esatto Totorina non notiva grande fiducia questo accreditamento come dire probabilmente è nato per una come dire fiducia del Messina Denaro ed è stata ricambiata questa fiducia dal Graviano Giuseppe questa è una mia valutazione fatto sta che ci sono episodi significativi che attestano anche concretamente il trascorrere anche con le proprie fidanzate dei periodi di vacanza come è successo nella villa di Forte dei Marmi c'è un episodio che viene raccontato da un collaboratore di giustizia che attesta l'avvenuta come dire regalia il dono da parte di Matteo Messina Denaro a Giuseppe Graviano di una collana per un valore di circa 50 milioni di lire dell'epoca quindi un significativo come dire dono attestante questo pubblica appunto attestazione del rapporto stretto la fase operativa l'ha dimostrata insomma questa cosa perché hanno consumato diversi delitti e hanno partecipato personalmente ad attività operative delicate e importanti quindi un rapporto strettissimo non so se oggi comandano la struttura mafiosa perché da quello che vedo io la struttura mafiosa è comunque in grande movimento ed ha modificato un po' il suo assetto il ritorno dei cosiddetti scappati dagli Stati Uniti il fatto che questi scappati gli Inzerillo la famiglia Inzerillo siano ritornati a Palermo e abbiano un ruolo importante il fatto che i ganci di stretta militanza corleonese oggi accettino come dire questa presenza degli Inzerillo in una posizione strategica e un po' come dire lo spostamento di Messina Denaro rispetto alla realtà mafiosa palermitana mi lascia intendere che in Cosa Nostra le cose sono cambiate certamente se mi si dovesse chiedere chi è l'ultimo reale vero corleonese inteso come appartenente a quella dottrina di pensiero oggi esistente io posso dire senza ombra di dubbio che è Matteo Messina Denaro Molte volte gli investigatori sono arrivati ad un passo da lui ma il super latitante dalle letture forbite da Cicerone a Pennac è sempre riuscito a sfuggire alla cattura la mia storia su questa terra non è ancora finita scrive Matteo Messina Denaro in un pizzino trovato in uno dei suoi covi dal dottor Giuseppe Linares capo della squadra mobile di Trapani questi Torquemada da strapazzo non mi fermeranno Matteo Messina Denaro divenuto invisibile nel 1993 è sempre riuscito a scampare all'arresto grazie alle coperture di chi? anche se a un certo punto la passione per le donne mette a rischio la sua latitanza come nel caso di Maria Mesi una giovane palermitana di cui si invaghisce come siete arrivati a Maria Mesi? mi dovete consentire fare un passo indietro nel 96 ottobre 96 i carabinieri fermano due soggetti di Campobello di Mazzara in località Triscina e sequestrano un malloppo di plastica con all'interno una miriade di pizzini un pizzino di questi era a firma Meri nel 1992 a settembre venne creato un gruppo investigativo dove siamo mandati io come il criminal polle e da là fecimo uno studio di tutti i flussi telefonici della zona di tutte le cene a un certo punto dall'analisi dei tabulati noi verifichiamo che vi erano delle oltre al collegamento con i mafiosi delle telefonate con soggetti femminili vi spiego di cui una intestataria un'utenza era intestata proprio a Maria Mesi venne semplice a noi identificare o quantomeno avevamo diciamo il 90% di possibilità di aver fatto bingo che la firma Meri poteva sicuramente corrispondere all'identificazione di Maria Mesi a quel punto cosa fate? a questo punto scatta l'inchiesta nei confronti di questa donna capiamo che questa Maria era ancora in collegamento con Matteo Messina Denaro viene messa sotto controllo l'abitazione e l'utenza di questa Maria Mesi e scoprite che cosa? ci accorgiamo che i fine settimana si assentava da casa tipo dal venerdì facendo il rientro la domenica e i familiari quando ricevevano delle telefonate e gli venivano chieste di parlare con Maria avevano delle scuse per giustificare l'assenza siccome nel 92 questa utenza era stata pure messa sotto controllo andiamo ad analizzare le vecchie intercettazioni effettuate alla Maria Mesi con le attuali intercettazioni e ci siamo accorti per fortuna per favura che la famiglia Mesi aveva sempre un'interlocuzione telefonica con i vicini dirimpettai la cosa che venne a sospetto è che quando seguivamo anche Maria Mesi che usciva con il proprio cagnolino a passeggiare e incontrava la dirimpettaia guarda caso non si salutavano facciamogli accertamenti sulla vicina e la cosa che rimbalzò che questa stava in affitto al primo piano sposata con un figlio scopriamo il marito aveva un assegno di sussistenza lei aveva un posto saltuario quindi sicuramente non navigavano nel loro e avevano una casa in affitto ma la cosa importante è che risultavano pure affittuati dell'appartamento al secondo piano e quindi a questo punto capirà benissimo che era un risultato molto importante per noi perché? alla luce di quello che poi trovate certo a questo punto noi puntiamo tutto sull'appartamento di sopra entrate in questo luogo entriamo in questo luogo e abbiamo a questo punto la matematica e certezza che quello era il posto proprio di fronte all'appartamento della via Mircuoc della Messe Maria dove la Maria Messe e Matteo Messina Denaro incontraveribilmente dai pizzini avevano un rapporto amoroso avevano gli incontri proprio in questa abitazione oltre a trovare il puzzle di cui lui è appassionato i videogiochi di cui lui è appassionato abiti di marca fular bracciali la salsa austriaca come sa lui ha avuto anche rapporti con altre donne dell'Austria quindi le piaceva la salsa austriaca e quindi stranamente là dentro c'erano anche le salsi austriiche nel frigo nel frizzer quindi capimmo che là al 100% era il covo dove gli innamorati sicuramente si incontravano e lì scatta il piano per catturarlo certo e che succede in realtà beh succede che mettete in micro spie assolutamente e cosa riuscite a avere purtroppo nulla noi aspettavamo l'incontro no? venne una cosa strana l'attitante non è più andato in questo covo se mi hai chiesto perché c'è sempre qualcuno che avvisa il latitante Matteo Messina Denaro non rispondo scusi a queste domande mi attengo ai fatti quello che è successo posso dire solamente che guarda caso il latitante non si è più recato e guarda caso va bene sarà un caso va bene Matteo Messina è stato condannato per un omicidio di un personaggio il direttore di un albergo che avrebbe fatto delle avance pesanti alla sua finanziata austriaca uno dei tanti ed è uno degli omicidi che mi ha più addolorato personalmente perché vediamo un mafioso che utilizza il potere mafioso per liquidarsi un rivale in amore e questo è terribile quel poveretto è stato ucciso in una gelida in un giro di pomeriggio di febbraio e non ha capito prima del trapasso perché lo stavano ammazzando ma è incredibile solo per un apprezzamento non poteva consentire che nel suo territorio qualcuno insidiasse la sua donna anche perché Gonzales forse irresponsabilmente non comprendendo la caratura di Messinaio Matteo si lasciò scappare una volta che quei quattro mafiosetti che frequentavano il suo albergo sarebbero stati cacciati fuori non appena lui sarebbe divenuto il direttore dell'albergo e firmò la sua condanna a morte voi avete l'idea di contattare questa donna certo perché potevate pensare che lei avrebbe potuto a sua volta richiamare magari Matteo Messina Denaro e cosa fate? ecco l'Austria ci autorizza l'arrogatoria e l'andiamo a sentire facemmo anche una perquisizione fummo abbastanza rigorosi nel pretendere delle risposte duri 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 e lei che reazione aveva avuto? lei fu molto algida era impregnata di una cultura mafiosa molto omertosa negò cercando di ricostruire il passato e lei ci disse che era stata fidanzata di Messina Matteo ci confermò chi erano i suoi amici che già conoscevamo Geraci Clemente Ciaccio che l'aveva conosciuto al Paradise Beach ma sapeva che era un uomo di mafia oppure per lei assolutamente no assolutamente no lei disse che non sapeva assolutamente nulla e negò tante circostanze e invece scoprimmo che lei era arrivata prima delle stragi del 93 ed era andata via nell'agosto del 93 ripartendo da Catania e lei era stata con i Graviano in Toscana a Milano anche a Venezia pare abbia accompagnato cioè era la donna ufficiale era la donna ufficiale quindi lei nega lei nega tutto lei nega tutto eccetera però noi sulla scorta di una precedente esperienza dopo l'omicidio di Consales la Barbera andò a interrogarla in Austria ovviamente negò tutto al ritorno si seppe che Messinaio Matteo era stato incommissariato a lamentarsi ancora una volta di questa iniziativa della polizia che addirittura andava in Austria a sentire la Andrea ovviamente noi attrezzammo un'azione investigativa nel 95 quindi voi mettete magari sotto controllo quel telefono di lei predisponiamo delle attività tecniche che cosa succede noi sentiamo la Andrea torniamo e per un anno non sappiamo nulla l'anno successivo nel 96 si pente uno dei maggiori collaboratori di giustizia diventato tale del Trapanese Vincenzo Sinacossi cosa le dice si agori con quel suo modo sornione di porre lei questione ma ha detto sa lei ha fatto arrabbiare molto Messinaio Matteo insomma un'arrabbiatura di un capo mafia della portata di Messinaio Matteo significa altre cose perché gli ho detto e perché avete trattato male malissimo la sua donna e ha detto come faceva a saperlo e beh perché dopo che si era andati via lei lo contattò da un'utenza dello zio insomma lei chiamò dal telefono giusto e noi avevamo trovato l'utenza sbagliata Calogero Pulici uomo della guardia di finanza è stato stretto collaboratore del procuratore aggiunto Teresa Principato la coadiuvava nelle indagini sulla ricerca di Matteo Messina Denaro ad un certo punto accade qualcosa e sul capo dell'appuntato iniziano a piovere denunce fino ad essere estromesso dalle indagini cacciato dalla procura in seguito verranno messi sotto accusa anche la Principato e l'allora procuratore di Trapani Marcello Viola dopo anni saranno tutti assolti appuntato Pulici lei uomo della guardia di finanza lavorava però nella polizia giudiziaria con magistrati molto importanti a Palermo no? con la dottoressa Principato negli ultimi sei anni era l'uomo di fiducia era l'uomo di fiducia della dottoressa e stavo nella stanza della dottoressa tutto il giorno quindi lei partecipava a tutte le fasi più delicate dell'attività della dottoressa assolutamente sì partecipavo agli interrogatori alle riunioni al coordinamento a tutto quello che riguardava l'attività della dottoressa succede una cosa molto strana dopo un sacco di anni all'interno della procura inizia a indagare su di lei nel luglio del 2015 vengo querelato da un mio collega per molestie telefoniche alla moglie e vengo allontanato a detta della dottoressa Principato con una lettera durissima dal procuratore dell'epoca e vengo trasferito nel giro di un mese sei o sette volte perché nessuno voleva avere a che fare con me ho subito tra processi e indagini circa sette otto procedimenti penati mi hanno sequestrato tutto anche mi hanno sequestrato tutto durante una perquisizione mi è stato restituito il tutto previa formattazione di tutti gli apparati lei si sarà chiesto però che cos'è che ha scatenato questo disseso di lei questa è una domanda a cui io non so dare ancora oggi una risposta in quel periodo la dottoressa di che cosa si occupava in particolar modo della latitanza di Matteo Messina Denaro quindi ci può essere secondo lei una delle cause se non la causa principale potrebbe essere stata anche quella lei è stato indagato anche insieme a magistrati molto importanti sono stato indagato insieme al dottore Viola che all'epoca era procuratore di Trapani procuratore capo a Trapani e sono stato indagato insieme alla dottoressa principale ma per che cosa scusi con il dottore Viola per avere passato al dottore Viola una pendrive con dei verbali di un collaboratore verbali a cui era presente anche il dottore Viola al momento della redazione degli stessi verbali e con la dottoressa per accesso abusivo al terminale quindi al sistema informatico della procura tutti questi processi sono caduti nel nulla tutti questi processi alcuni in fase di indagini preliminari come le molestie da cui è partito tutto e gli altri in fase di battimentali uno in appello e uno in primo grado erano usciti degli articoli proprio qui in Sicilia che raccontano la storia molto strana la Principato credo avesse avuto a che fare con un pentito un personaggio un po' anche ambiguo tale Tuzzolino chi era Tuzzolino? Tuzzolino era un collaboratore diventò successivamente un collaboratore e fu proprio lui a dirmi ma era legato alla massoneria che cosa era legato Tuzzolino? alla massoneria e chiaramente anche a Cosa Nostra e perché lei ha avuto a che fare con Tuzzolino? io verbalizzavo Tuzzolino perché abbiamo sentito una volta con la dottoressa Principato e lui stesso in un colloquio fuori verbale mi disse che aveva delle notizie da dare su Messina Danaro io ho riferito alla dottoressa e poi abbiamo iniziato a verbalizzare tutto ciò che Tuzzolino dichiarava era il rapporto diciamo diretto con Tuzzolino ce l'avevo quasi solamente io io ho visto dei verbali dove Tuzzolino rende disposizione proprio con la dottoressa Principato si parla di possibili incontri con Matteo Messina De Naro è vero o no? sono verbali coperti da segreto istruttorio quindi non lo escludo ma non lo non vi ha mai parlato per esempio di un appartamento a New York dove c'era una cassaforte particolare è uscito questo articolo su questa vicenda ho letto un articolo su Live Sicilia e posso dire che da quello che c'era scritto sull'articolo ne aveva parlato dunque la cassaforte sembra che ci fossero le fotografie che ritraevano Tuzzolino con Matteo Messina De Naro questo non è coperto da segreto quindi non quindi i giornalisti si era inventato lì il giornalista l'ha scritto avrà avuto le sue fonti ecco qualcuno ha verificato l'attendibilità di Tuzzolino cioè Tuzzolino quando diceva per dire che andava in Spagna all'est per incontrare per incontrare per incontrare proprio Matteo Messina De Naro l'avete verificato se era attendibile su questo o no per esempio si molte cose sono state verificate su quello era attendibile e New York New York era attendibile perché c'era realmente stato la guardia di finanza aveva accertato che c'erano dei voli e che lui si legava periodicamente a New York a New York Tuzzolino sostiene di avere una bellissima avuto una bellissima appartamento e in questo appartamento avrebbe avuto una cassaforte dentro questa cassaforte c'erano dei documenti c'era una fotografia glielo richiedo che lo ritraeva insieme a Matteo Messina De Naro di cui non si è mai visto il volto qualcuno ha verificato non glielo so dire non glielo posso dire più che non glielo so secondo lei voi siete andati lei e la dottoressa principale io non sono mai andato la dottoressa non è mai andata a New York e qualcun altro sarà andato? non glielo so dire lei qui diceva prima io vivevo praticamente H24 con la dottoressa principale assolutamente ma uscivate mangiavate anche insieme ma è vero questa storia che lei non era molto pratica di computer eccetera diciamo che della parte informatica me ne occupavo interamente io questo scusi vuol dire che verbalizzava verbalizzavo i collaboratori sì avevo un computer mio personale in cui su cui venivano venivano effettuati anche gli interrogatori e c'era il backup quindi la copia proprio fisica del mio computer dell'ufficio e del computer dell'ufficio della dottoressa a lei a un certo punto hanno sequestrato il computer a me hanno sequestrato tanti computer ma là dentro cosa c'era? c'era di tutto c'era di tutto anche le storie di Matteo Messina Renaro? soprattutto le storie di Matteo Messina Renaro e perché gliel'hanno sequestrato? me l'hanno sequestrato perché perché sono stato indagato per rivelazione di segreto d'ufficio e probabilmente la procura riteneva che una volta che io fossi stato allontanato dall'ufficio non avevo più titolo per tenere i verbali scusi una volta che lei è stato assolto è uscito da sua vicenda il computer gliel'hanno restituito? i documenti l'artvis che era dentro gliel'hanno restituito? i computer me li hanno restituiti tutti formattati quindi privi del contenuto cioè è sparito tutto? sparito tutto il latitante Matteo Messina Denaro è il collante tra mafia massoneria e servizi segreti? e che cosa è emerso dal processo per le stragi del 92 che gli è costato un altro ergastolo? dal processo emerge certamente un episodio inquietante che lo riguarda riguardo al rapporto tra Cosa Nostra e Massoneria Cosa Nostra ha sempre utilizzato soprattutto per quanto riguarda il tentativo di aggiustare i processi proprio nel processo contro Matteo Messina Denaro emerge questo aspetto che riguarda l'aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano Basile è un vecchio omicidio che in reazione al quale si scopre che un notaio di Castelvetrano si reca dal presidente della corte della Sisera Appello lo avvicina e col chiaro intento di intimidirlo questo tentativo va a vuoto perché il magistrato naturalmente lo denuncia e blocca immediatamente questo progetto di intimidazione quello che si viene a sapere successivamente è che questo notaio Ferraro era legato a Matteo Messina Denaro secondo quanto riferisce Giovanni Brusca e quindi fu poi Matteo Messina Denaro a ordinare per conto di Riina che il notaio Ferraro legato ad ambienti della massoneria è legato anche ad alcuni ambienti politici tipo Inzerillo Inzerillo uomo di Graviano che viene eletto senatore l'aprile del 92 quindi un mese prima delle stragi quindi c'era rapporto massoneria politica e i servizi sui servizi c'è una storia che parte dalla vicenda di una vecchia vicenda che riguarda l'omicidio di un di un capomafia alcamese che si chiama Milazzo si chiamava Milazzo che viene ucciso nel 92 pochi giorni prima della strage di Via D'Amelio in quella che si ritiene quando si celebra il processo a carico dei suoi assassini come un regolamento di conti interno a Cosa Nostra e invece cosa nascondeva? Tempo dopo successivamente inizia a collaborare l'uomo di fiducia di Vincenzo Milazzo colui che lo accompagnava colui che aveva insomma era a conoscenza di tutti i suoi segreti e questo racconta che Vincenzo Milazzo era stato avvicinato tempo prima già all'inizio del 92 da una serie di personaggi che si accreditano che si presentano come appartenenti a strutture a strutture istituzionali che fanno capo ai servizi di sicurezza evidentemente non tanto istituzionali ma piuttosto deviati in questo caso sollecitano Vincenzo Milazzo che è un un importantissimo uomo d'onore legatissimo a Riina legatissimo a Bernardo Brusca quindi un pezzo da 90 lo sollecitano a cosa? lo sollecitano a compiere atti terroristici cioè a compiere atti che diffondano il panico nella popolazione addirittura evocano la possibilità di ricorrere alla guerra batteriologica che risposta lui chiede Milazzo perché alla fine Milazzo paga con la vita Milazzo bolla questo avvicinamento questi soggetti e questo progetto come follia come pura follia perché dice Cosa Nostra non potrà mai fare queste cose perché Cosa Nostra sarebbe la morte per Cosa Nostra se si imbarcasse in una operazione del genere e improvvisamente lui che è sempre stato nel cuore di Rina muore dopo qualche tempo improvvisamente per delle ragioni che appaiono banali sinceramente le hanno eliminato Rina non non intende naturalmente diffondere la vera ragione della morte di Milazzo la vicenda che riguarda la morte di Milazzo si colora di un ulteriore episodio che la rende ulteriormente diciamo inquietante perché perché la fidanzata di Vincenzo Milazzo viene uccisa il giorno dopo questa donna si scopre essere innanzitutto nipote di un appartenente ai servizi di sicurezza secondo un altro collaboratore alcamese proprio Milazzo a un certo punto mentre sono detenuti fa riferimento alla fidanzata Antonello Abbonomo dicendo che adesso attraverso i suoi buoni uffici personaggi dei servizi potrebbero aiutarli a uscire da quella storia la storia era l'imputazione per la strage di Pizzolungo dalla quale poi vennero tutti assotti ci sta un altro grande mistero a mio avviso ed è il carteggio di Alessio che è stato individuato in Messinaio Matteo che scrive a Provenzano e al contempo scrive a Baccarino Baccarino è un politico ex sindaco di Castelvetrano che ad un certo punto nel 2003 e 2004 per conto dei servizi segreti allora retti da generale Mori inizia un contatto epistolare con Messinaio Matteo per stanarlo almeno questa era la giustificazione perché è un mistero perché dal punto di vista grafico queste lettere non sono riferibili alla mano di Messinaio Matteo però chi legge queste lettere l'Alessio che scrive a Provenzano lì c'è il mafioso con gli errori di ortografia con uno stile semplice quello del pizzino poi leggi lo stesso Alessio che scrive a Svetonio attenzione è Alessio che dà il nome a Baccarino dice da questo momento lei si chiamerà Svetonio e richiama alla mente un'altra vicenda quella di un altro soggetto che aveva il nome di Rutilius che operava come il nome di copertura dei servizi segreti allora tutta questa questa situazione così particolare doveva avere un obiettivo poteva essere quello che i servizi volessero dialogare con Provenzano utilizzare Provenzano o la mia deduzione io le racconto i fatti i fatti che costituiscono un mistero dicono che il contenuto ideologico della persona che scrive a Provenzano è diverso e quindi è diversa la persona di quella che scrive a Baccarino glielo dico in latino qui protest ci sono i colleghi che indagheranno anche su questo per due anni Antonino Vaccarino professore di lettere ex sindaco di Castelvetrano scomparso recentemente intrattiene con il nome convenzionale di Svetogno un carteggio con il latitante Matteo Messina Denaro Aglias Alessio per conquistare la fiducia del latitante Vaccarino fa leva sull'amore per il padre morto il tuo eccezionale genitore ritengo abbia fatto della sua vita l'esaltazione dell'equilibrio fino a che il 15 novembre del 2007 Matteo Messina Denaro scopre la trappola in cui era caduto e gli invia una lettera spietata solo dopo accertamenti processuali il generale Mori rivela che Vaccarino collaborava con il SISDE dunque chi scriveva le risposte per conto di Matteo Messina Denaro Aglias Alessio ad oggi resta un mistero non ha neanche da sperare in una mia prematura scomparsa o nel mio arresto perché qualora accadesse una di queste ipotesi per lei nulla cambierebbe in quanto la sua illustre persona fa già parte del mio testamento ed in mia mancanza verrà sempre qualcuno a riscuotere il credito che ho nei suoi confronti comunque vada lei o chi per lei pagherà questa cambiale che ha forse natamente firmato lei è un essere smaturato che non ha voluto bene neanche alla sua famiglia si vergogna di esistere Matteo Messina Denaro a 30 anni a 31 anni è già al vertice di Cosa Nostra non arriva al vertice di Cosa Nostra semplicemente perché è il figlio di Francesco Messina Denaro e cioè il rappresentante provinciale di Trapani da oltre vent'anni ma perché Rina lo sceglie tra i tanti come il suo possibile successore e questo non lo dicono solamente i collaboratori lo dice Giuffre lo dice Giovanni Brusca tutti definiscono Matteo Messina Denaro come una creatura di Rina come uno che è uscito dalla scuola di Rina ma la più forte conferma di questo assioma è data proprio da Rina stesso perché proprio Rina che è intercettato nel carcere insieme mentre parla con tale Lorusso che è stato scelto come suo compagno di socialità si sfoga dicendo che Matteo Messina Denaro era la sua creazione il padre glielo aveva consegnato e lui se l'era tenuto sulle ginocchia per 4-5 anni e ne aveva fatto dice un cristiano un uomo che era pronto per prendere le redini insomma per essere un uomo di punta di cosa nostra una persona responsabile ce l'ho e sarebbe Messina Denaro però che cosa fa per ora questo Messina Denaro che io non so più niente se questa signora pensa solo a lui che non si cura dei vostri interessi vuol dire che questo questo signor Messina questo che fa il latitante che fa questi pali questi pali i pali 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 eolici i pali eolici i pali della luce se potessi mettere in tuo culo la luce che farebbe più figura se mettessi in tuo culo la luce e se la illuminasse no? no ma per dire che questo si senta di comandare si senta di fare la luce dovunque fa luce fa pale per prendere i sordi ma non si interessa che ora se ci fosse suo padre a botanima perché suo padre era un bravo cristiano un beddo cristiano un suo ciccia era di che Salvetano però e devo dire la verità ha fatto tanti anni di capomandamento a Castelvetano era un cristiano perfetto un cristiano un orologio lo chiamavano un ruggetietto questo qua questo figlio lo ha dato a me per farne quello che ne dovevo fare è stato 4 o 5 anni con me andava bene l'unico ragazzo che avrebbe potuto fare qualcosa perché era detto un padre buono l'aveva avuto buono era il ragazzo aveva avuto questa scuola che ci fai io parla della luce minchia sei messo a fare parla della luce parla della luce da tutte le parti da tutte le parti parla autoincenze ovviamente se stesso parla di se stesso come uno che era riuscito a creare da questo ragazzo ne aveva fatto un mafioso diciamo un prototipo di mafioso sì ma Mario era critico nel senso che improvvisamente dice si occupa dell'eolico del mondo eolico come un padre è tradito improvvisamente dopo averlo e dopo aver celebrato se stesso ed esaltato la figura di Matteo Messina Denaro dicendo che era il suo figlio preferito colui che insomma lui aveva lanciato che aveva fatto la sua scuola quindi era perfetto perché era uscito dalla sua scuola improvvisamente quasi ritorna sui suoi passi e comincia a dire e adesso invece si è messo a fare i pali della luce nel senso di dire adesso anziché pensare a fare le stragi come io gli ho insegnato si è messo a fare gli affari per pali della luce lui intende gli interessi di Matteo Messina Denaro nel settore dell'eolico ed è un po' la metafora se vogliamo di quello del rinapensiero su quello che era insomma la politica di Provenziano l'inabissamento di Cosa Nostra la cattura di Matteo Messina Denaro chiuderebbe il cerchio sulla trattativa secondo il mio punto di vista sì Messina Denaro è in questo momento l'ultima persona che potrebbe in qualche modo chiarire realmente come sono andate le cose e la sua cattura se voglio dire questa trattativa è esistita realmente secondo il mio punto di vista chiuderebbe proprio la trattativa stessa insomma si potrebbe dire che il fatto che lui sia ancora libero potrebbe ancora costituire una sorta di idea che questa trattativa non è ancora conclusa Matteo Messina Denaro dicono che sia morto che non ci sia più allora se è morto lasciamolo tranquillo lì non voglio parlare di lui ma lei l'ha mai visto? non voglio parlare di lui diretti quindi a chi dice che è sparito che è morto Matteo Messina Denaro fa comodo dirlo fa comodo dirlo così non lo si cerca diciamo poi al limite anche se lo si cerca che lo si trova si fa in modo di non trovarlo evidentemente perché è la storia che ci insegna guardi Provenzano quante volte dicono che hanno detto che doveva essere già arrestato più e non l'avevano mai arrestato si vede che ha la scadenza giusta ci sarà una scadenza magari anche per questo personaggio vedrete si vede che sono cose prestabilite dicono che la storia insegna ma perché dice magari fra vent'anni quel personaggio che ha detto lei fa comodo magari prenderlo è fondamentale prendere questo signore noi dobbiamo chiudere il cerchio rappresentare all'Italia diciamo come dire la chiarezza far capire agli italiani chiaramente che cosa è successo in quel periodo in quella stagione e per fare questo noi dobbiamo prendere questo soggetto solo che si tratta guardi io faccio spesso quando si parla di messina del Naro una sorta di citazione letteraria non mi sembra Moby Dick cioè il tipo di la banana bianca il tipo di latitanza che conduce messina del Naro non è la latitanza della cicoria del del casolare della provenzano esatto o di altri latitanti è una latitanza più evoluta è un soggetto che emerge in certi momenti in un certo posto e tu devi essere in quel posto esattamente nel momento in cui quel soggetto emerge per la prima volta il 20 aprile 2018 nel processo trattativa stato mafia la corte d'assise di Palermo oltre a boss mafiosi condanna per minaccia corpo politico dello Stato uomini delle istituzioni 12 anni di reclusione per il generale Mario Mori per il generale Antonio Subranni e per il senatore Marcello Dell'Utri 8 anni per il colonnello del reparto operativo speciale Giuseppe De Donno tutti con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici la sentenza d'appello sarà emessa a breve perché al di là delle singole posizioni imputati è stata importante la sentenza della trattativa io credo che il merito più evidente di quella sentenza sia quello di aver proceduto ad un esame non atomizzato di fatti e vicende apparentemente diverse ma di aver analizzato quelle vicende in maniera sistematica collegata coordinata e soltanto attraverso questo metodo si è riusciti a mio avviso a dare il significato giusto a tanti fatti apparentemente slegati la mancata perquisizione del covo la vicenda di Lardo la mancata cattura di Provenzano i colloqui del Ross dei carabinieri con Vito Ciancimino ma tutti uniti da un unico filo conduttore perché uomini delle istituzioni uomini importanti attori principali di un certo tipo di operazione sono quelli che hanno catturato per esempio Totorina avevano un senso sbagliato dello Stato agivano per conto di un rapporto con la politica certo non si può dire che fossero collusi con la mafia ma in quale modalità hanno agito allora noi non abbiamo mai ritenuto che questi uomini dello Stato questi carabinieri siano stati dei corrotti dei collusi con Cosa Nostra o tantomeno che erano intimiditi della Cosa Nostra abbiamo ritenuto che hanno agito senza nessun rispetto delle regole soprattutto senza nessun rispetto delle regole di rapporto con l'autorità giudiziaria per una malintesa e non dichiarata ragione di Stato vede la ragione di Stato è tale quando organismi politici per motivi di sicurezza dello Stato con una procedura trasparente la dichiarino e dichiarino che in un determinato contesto storico alcuni comportamenti che costituiscono un reato vengono scriminati quella è la ragione di Stato ma al di fuori di una procedura di assunzione di responsabilità politica chiara precisa trasparente comportamenti di questo genere trattative di questo genere sono assolutamente illecite e pericolose quegli erano anni sembrava stata una vita una situazione drammatica c'erano le bombe c'erano state le stragi e lo Stato una specie di trattativa doveva farla anche con la mafia per porre fine alle stragi o lì non si doveva trattare trattando con i capi di Cosa Nostra in quel momento chiedendo loro cosa volessero i capi di Cosa Nostra per interrompere la scia di sangue che era già iniziata con l'omicidio Lima lo Stato ha rafforzato Cosa Nostra l'ha riconosciuta come un proprio interlocutore e soprattutto ha convinto Rina e gli altri capi dell'organizzazione mafiosa che quella strategia che era iniziata a colpi di indelitti eccellenti e attentati come quello di Capaci era una strategia che pagava Rina quando aveva cominciato a concepire il suo programma streggista aveva detto ai suoi più stretti collaboratori bisogna fare la guerra per poi fare la pace aveva ben chiaro un dato più semino il terrore più spero che lo Stato possa farsi avanti per ricostituire poi ecco che significa fare la pace nuovi contatti politici lo Stato aveva iniziato a piegare le ginocchia e Rina voleva a quel punto ed era nelle condizioni impugnando il coltello dalla parte del manico di metterlo definitivamente in ginocchio se lo Stato non avesse cercato Rina e Cosa Nostra probabilmente soprattutto dopo l'arresto di Rina Cosa Nostra non avrebbe avuto l'ardire di continuare a sfilare lo Stato con sette stragi compiute nell'arco di un anno e mezzo uno sconvolgimento per la nostra democrazia pensare che oggi noi possiamo in qualche modo dimenticare o lasciare alle spalle definitivamente quei fatti come se appartenessero a un passato che non ci può interessare più è veramente un comportamento non accettabile nei confronti del nostro paese Rina ormai non partecipava alle udienze degli altri processi ma non perdeva una battuta del processo per la trattativa Stato-mafia partecipava dalla sua cella in videoconferenza comunque dal carcere di opera in videoconferenza a tutte le udienze e quando gli operatori del GOM della polizia penitenziaria lo chiamavano lui chiedeva sempre di quale processo si tratta ne aveva avuti tanti e ne aveva tanti che poteva anche confondersi gli avevano detto che si trattava del processo della trattativa e mentre si avviava dalla sua cella alla stanza dove avrebbe partecipato in videoconferenza all'udienza disse queste parole io sono stato cercato dallo Stato al governo dovevo vendere i morti da lì pensammo che evidentemente era un soggetto un imputato che era tanto interessato a quella tematica e che forse avrebbe potuto e desiderato parlare di questa tematica l'unica persona con la quale poteva parlare era il suo compagno di socialità e abbiamo richiesto e ottenuto dal GIP l'autorizzazione per l'intercettazione delle conversazioni è stato come vivere un pezzo importante di storia della mafia e non solo della mafia ma del nostro paese in diretta era veramente impressionante anche ascoltare il modo con il quale Riina rivendicava l'orgoglio criminale di aver fatto quello che non era riuscito a nessun altro criminale al mondo cioè mettere in ginocchio lo Stato e organizzare attentati in danno di giudici politici ricordava la vicenda di Capaci di Via D'Amelio in termini anche dispregiativi anche della memoria personale dei giudici Falcone e Borsellino i primi quelli della macchina erano cinque sono scomparsi tutto pezzo a pezzo li hanno presi non ne hanno trovato niente nulla che cosa è successo si sono disintegrati i corpi sono spembrati pezzo a pezzo minchia potenza potenza bomba potenza bombardamento quando sarà che i ragazzi leggeranno la situazione che diranno perché a scuola la studiano lui sa cosa diranno ma chi era questo ingegnere potentoso chi era non la possono digerire non la possono digerire non la possono digerire è un esempio un esempio dato proprio dato sono isolato da quando sono in galera 21 anni isolato ma questo sempre isolato è stato noi altri abbiamo fatto il nostro dovere di vedere di poterlo fare recuperare ma questo non si può recuperare è irrecuperabile vi faccio vedere io chi sono chi sono le persone sulla terra se io restavo fuori io continuo a fare un macello continuo al massimo livello ormai c'era l'ingranaggio questo sistema e basta mi inchieravano tutti tutti mafiosi i capimafia Totorina non li faceva passare sono parole molto forti che fanno capire come Totorina non avesse nessuna intenzione di cambiare se mai fosse uscito non sarebbe cambiato le chiedono un suo commento su questa inevitabile sembra decisione di dover affrontare una legge che dovrebbe modificare quello che è l'orgastolo stativo torniamo sempre all'oggetto della trattativa alla fine sono passati tanti anni ma allora chiedevano l'abolizione del 41b se oggi siamo arrivati l'unica pena che veramente è temuta dai mafiosi è quella dell'orgastolo cioè loro mettono in preventivo di stare anni in galera perché lo sanno però quale galera l'orgastolo è da loro temuto soprattutto non soltanto perché il fine pena mai ma soprattutto se l'orgastolo è veramente ergastolo cioè impedisce loro di continuare a comandare di continuare a far valere anche semplicemente simbolicamente il loro prestigio e il loro peso criminale per questo nel periodo delle stragi tra gli altri obiettivi hanno mirato alla abolizione dell'orgastolo oggi penso che purtroppo oggettivamente quella loro volontà quel loro obiettivo si stia in qualche modo realizzando e fa un po' rabbia pensare che oggettivamente si sta realizzando uno degli obiettivi per i quali hanno fatto le stragi il mafioso che compie una strage o un omicidio eccellente lo fa non soltanto per eliminare un obiettivo un nemico ma è un'affermazione di predominio del sistema mafioso rispetto al sistema statuale e rispetto al sistema democratico allora anche quegli uomini possono uscire da quei contesti però ne possono uscire soltanto ripudiando quel contesto ma il ripudio non può essere soltanto formale il ripudio deve essere dimostrato attraverso una collaborazione con la giustizia se un mafioso anche il peggiore degli stragisti dimostra attraverso una collaborazione che sia seria attendibile riscontrata di volere rinnegare quel passato possiamo dire che è uscito da quel sistema criminale altrimenti continua a farne parte e ne farà parte fino all'ultimo giorno della sua vita fa un po' specie considerare e non lo considero nemmeno molto corretto che gli ergastoli siano tutti uguali e gli ergastolani sono tutti uguali fu Giovanni Falcone per primo a capire e a illustrare anche pubblicamente la specificità del sistema e a concepire quella normativa penitenziaria con l'ergastolo stativo come base principale che oggi viene smantellata il dato oggettivo è questo e io credo che in questo momento anche rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale molti mafiosi e stragisti siano molto contenti nessuno vuole concepire la pena come una vendetta dello Stato però lo Stato ha anche delle finalità di prevenzione che devono sempre far considerare la specificità del sistema mafioso anche nell'ottica della tutela di altri principi costituzionali altrettanto importanti e fondamentali quanto quello della rieducazione del condannato se si sposano i miei figli e può nascere qualche altro totò chi lo sa io ci spero può nascere qualche nepote ci spero potrebbe succedere che qualche cosa che prendesse l'impronta del nonno con questa personalità mia potrebbe succedere che un altro da questo labirinto nel quale siamo entrati cercando di trovare il filo che lega le tante domande a cui non sono state date delle risposte non torniamo a mani vuote torniamo con la forza di proseguire verso l'unica verità che potrebbe restituire giustizia non solo alle vittime della mafia ma a tutto il paese perché è uno Stato con la S maiuscola un paese che guarda al futuro ha il diritto di sapere chi oltre a Cosa Nostra quelle stragi le ha volute oppure non ha fatto nulla per impedire che avvenissero a Cosa Nostra per a Cosa Nostra a Cosa Nostra Grazie a tutti.